Buonasera, benvenuti. Mi presento, sono Francesca Nicastro e sono coordinatrice della sezione dell'MF di Conegliano, Vittorio Veneto. Grazie intanto per la vostra presenza, vedo che siete numerosi e certamente vi fa onore perché impiegare, investire una serata dopo magari una giornata di lavoro già faticosa in queste condizioni in cui stiamo lavorando in questo periodo per ascoltare e dibattere di questi temi, certamente vi fa onore. Questo è un evento organizzato dalla sezione MFE di Conegliano, Vittorio Veneto, insieme alle sezioni di Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa, Valpolicella e assieme alle sezioni GFE che è il movimento giovanile del movimento che deve essere europeo. Spinelli e il Manifesto di Ventotene, certamente non un evento che vogliamo sia celebrativo, anche se nel prossimo anno, nel 2021, ricorreranno gli 80 anni dalla stesura del Manifesto di Ventotene che venne appunto scritto nell'agosto del 41 in questa piccola isola della costa laziale. Non una serata di misologia o di archeologia. Facciamo un percorso nella storia, andiamo a conoscere le motivazioni che hanno spinto un gruppo di persone a far nascere il processo di integrazione europea perché vogliamo comprendere meglio il presente. Comprendere meglio il presente in un tempo così confuso per molti, in cui molti sono disorientati, ma anche mettere a punto un'azione politica, dove per azione politica dobbiamo intendere, in senso più generale. Politica viene da polis, mi piace ripeterlo ogni volta, cioè che è comunità, tutto ciò che costruisce la comunità, tutto ciò che tiene insieme le persone, tutto ciò che produce coesione sociale. E questo lo possiamo fare se riusciamo a comprendere le motivazioni che hanno spinto, che hanno dato inizio al processo di integrazione europea. La motivazione principale fu la pace. Quella generazione lì è una generazione che visse il dramma della dittatura in molti paesi europei, il dramma della guerra e capì che superare lo Stato nazionale era la condizione necessaria per portare pace nel continente europeo. Quell'obiettivo lì è stato raggiunto. Il continente europeo vive da 70 anni in pace. La pace non è un valore scontato. E quel valore lì è stato raggiunto, quell'obiettivo lì è stato raggiunto. Quindi quando noi sentiamo le critiche all'Unione europea, dobbiamo sempre ricordare alle persone che l'obiettivo per cui è nata è stato raggiunto. Certo, oggi ci sono nuove sfide, il presente ci pone nuove sfide. Ne cito soltanto alcune, le sappiamo tutti noi. La crisi climatica e la necessità di riconvertire il nostro sistema produttivo da inquinanti distruttivi per l'ambiente a sistemi economici sostenibili, ecologici. Le grandi migrazioni, il tema della sicurezza, quindi del tema della difesa, di una politica estracomune, il tema dei diritti civili, dei diritti sociali, che sono stati il grande raggiungimento dell'Unione europea, degli stati dell'Unione europea, dei nostri paesi. Il tema del welfare sarà un tema molto importante nei prossimi anni. Tutte tematiche che chiaramente hanno una valenza che va oltre quella del, che non possono essere risolti a livello di Stato nazionale, ma richiedono soluzioni globali, soluzioni sicuramente sovranazionali. Quindi oggi riandiamo, grazie all'intervento che abbiamo chiesto a Giulio Saputo, che è un giovane storico ed è anche segretario del movimento MFE di Toscana, della Toscana, andremo a ripercorrere quelle motivazioni e andremo a capire perché Spinelli pensò al federalismo come una soluzione istituzionale per l'Unione europea. Che cos'è il federalismo, cos'è il metodo federalista? In questi anni, in questi mesi, noi abbiamo visto nei nostri paesi risorgere quelli che oggi vengono chiamati sovranismi, forze sovraniste, movimenti sovranisti. Il sovranismo non è altro che il vecchio nazionalismo che viene chiamato oggi giornalisticamente, perché è più interessante chiamarlo così, con questo nome qui. Quindi ci sono delle spinte a tornare indietro e questo accade spesso quando si è in mezzo al guado, quando si è al mezzo al guado di un processo, il processo di unificazione europea non è stato completato e non è stato completato in senso federale. Si rischia di prendere paura perché la corrente è forte e di voler tornare indietro, invece noi vogliamo andare avanti. Il Movimento federalista europeo, che nasce nel 1943, ha le risposte per poter andare avanti e le risposte sono l'unione politica dell'Europa, l'unione economica, l'unione in senso federale, la difesa comune, la politica estera comune e l'esercito comune. Bene, io mi fermo qua, do soltanto un dato che mi sembra interessante, è una ricerca dell'SBG uscita in questi giorni. Il sentimento degli italiani verso governo, regioni e protezione civile rispetto alla gestione della pandemia del Covid è sceso rispetto a marzo dell'anno scorso, c'è meno fiducia. Al contempo invece è salita la fiducia verso le istituzioni europee, verso l'Unione europea. Questo è un dato in controtendenza, piccolo, sapete perché le percentuali non sono alte, però ci dice che se l'Unione europea riesce a dare delle risposte efficaci, efficienti, tempestive, come ha fatto in questi mesi con la pandemia, certamente si può rinnescare anche quel sentimento positivo, quel consenso sociale necessario per poter avanzare sul fronte dell'integrazione europea. Allora io intanto vi ringrazio, vedo che nel frattempo si sono collegate altre persone. Saluto tutti, chiedo se è possibile a chi non ha messo nome e cognome di rendervi riconoscibili. Non è facile fare incontri con questa modalità, sarebbe più bello trovarsi insieme, vedersi in faccia, poter interloquire. Abbiamo uno schermo davanti, quindi almeno cerchiamo di renderci riconoscibili, mettendo il nome sulla nostra finestrella. Se non sapete come fare, scrivete in chat che Francesco vi dà una mano. Io intanto vi ringrazio e do la parola a Giulio Saputo. Benvenuto a tutti, grazie ancora, grazie Giulio che ci sei. Allora, innanzitutto ringrazio io voi per l'invito e anche vi faccio i complimenti per la serie di eventi che state anche organizzando come rete delle sezioni venete, quindi ringrazio per l'invito tutte le sezioni dell'MF e delle GFE che sono coinvolte nell'organizzazione di questi eventi, che sono senz'altro un servizio per l'esterno, visto che sono aperti a tutti, ma sono anche un'ottima opportunità per l'interno, per tutti i militanti, per tutti i simpatizzanti, banalmente di rifare un'infarinatura, di ridiscutere e di capire insieme anche sia il nostro passato, come giustamente ricordava bene Francesca, cioè capire da dove veniamo per comprendere dove siamo e interpretare dove vogliamo andare. In questo senso ora, se riesco rapidamente a condividere lo schermo, avevo piacere di farvi vedere delle slide che ho preparato, devo dire, molto in fretta, quindi vi prego di non far caso alla qualità delle slide che servono essenzialmente per seguire più che altro il filo logico del ragionamento, più che tutto il resto. Detto questo, ora, Spinelli, il manifesto di Ventotene, la riscoperta del federalismo durante la resistenza come risposta alla crisi della civiltà moderna. Allora, qui ci sarebbe da fare un seminario probabilmente da 12 crediti su cui ci si concentra su ognuno, ogni singolo contesto, ogni singola parola che rappresenta un contesto a sé stante. Quindi, naturalmente, io darò un'interpretazione e un taglio molto tranchant di tutta quanta il dibattito, insomma, il discorso introduttivo che vorrei fare. Quindi approfondiremo senz'altro nel dibattito tutte le tematiche che vorrete e serve a questo sostanzialmente. Quindi io provo a dare un'introduzione al dibattito molto rapida, butterò tanta carne al fuoco nella speranza di alimentarlo. Come vedete, come prima immagine, ho messo uno dei primi numeri dell'Unità Europea di maggio del 43. Quello che vorrei fare ora, la panoramica. Allora, la panoramica è molto semplice. Noi parleremo di un contesto in cui nasce il manifesto di Ventotene, che è quello della resistenza. Allora, innanzitutto bisogna dire che nella storia non ci sono i buoni e i cattivi, non c'è una divisione manichea degli esseri umani, ma ci sono gli esseri umani. Quindi al centro di tutto quello che noi stiamo andando a affrontare è un percorso che parla degli uomini, cioè parla delle idee che questi uomini hanno portato avanti o le loro gambe. Detto questo, non dobbiamo mai cedere alla costruzione di un'epica o di un'idealizzazione di un qualcosa. Cioè durante la resistenza si faceva la guerra, morivano i bambini. Cioè la guerra, come diceva bene Ernesto Rossi, c'è anche una pubblicazione recente di Antonella Braga molto interessante, che è l'ultimo libro che si chiama abolire la guerra. La guerra è sempre sofferenza, è schifo, è puzza, ma soprattutto è una selezione a rovescio. Cioè attraverso la guerra, dice benissimo Rossi, cioè vengono sterminati tutti quelli che sono i più generosi, il futuro migliore della classe dirigente di tutti i paesi. Quindi non si può mai trovare un'epica, neanche come non si trova nella prima, non si trova nella seconda guerra mondiale. Però quello che possiamo fare è cercare di capire quello che è successo. Quando andiamo a analizzare la resistenza, noi dobbiamo avere la resistenza, è un fenomeno straordinariamente complesso, è un fenomeno che parla di un periodo e di una di una serie di iniziative che non riguardano assolutamente solo, come si tende molto spesso a semplificare il partito comunista, anzi, ma è una resistenza che non è neanche solo la resistenza armata. La resistenza, diciamo, in particolare in Europa è stato uno straordinario laboratorio politico-sociale, non soltanto laboratorio europeo, che è la parte che interessa più a noi, ma un laboratorio anche per la società. Voi pensate al ruolo delle donne, che in qualsiasi rivoluzione, qui ce l'ho voluto emettere per quello, in qualsiasi rivoluzione nel corso della storia, molto spesso si trovano all'avanguardia, cioè sono a fianco agli uomini nel portare avanti il processo rivoluzionario. E voi pensate, durante la resistenza erano 35.000 le combattenti, no? 3.000 sono state deportate, 5.000 arrestate e torturate, 19 medaglie al valore. Cioè, questo per dire cosa? Che poi, però, come ci riorno, arriva la reazione, arriva il riflusso. E così come in tutti i processi in cui ci si è fatto dei grandi avanzamenti rivoluzionari, poi arriva la reazione. E paradossalmente, questa sarà un'intuizione che tra l'altro farà molti anni dopo, Ursula Hirschman sulla condizione della donna, fondando fan per l'Europa. E la condizione della donna farà molti salti indietro dopo la resistenza, così come quella che è la battaglia e il sogno, no? Di ricostruire un continente diverso, non sulle lava, come si diceva, come dicono nel manifesto di Ventotene, non sulla lava che si sta affreddando e del ritorno agli stati nazionali, ma sulla lava ancora incandescente che permetteva il processo di ostinzione del Stato federale. Ecco, come vedremo, i federalisti dovranno affrontare questo grande riflusso. Detto questo, parliamo della complessità della resistenza del fenomeno europeo, dei progetti del manifesto di Ventotene e perché la resistenza non è finita. Allora, innanzitutto parliamo della complessità della resistenza, l'ho già detto prima, innanzitutto è difficile darne una cronologia. Cioè, soltanto per immaginare la resistenza nazionale, si pensano a tre fasi, no? Voi immaginate, si parla di resistenza dall'opposizione all'ascesa, quando si ragiona, per esempio, degli arditi del popolo, il fuoriuscitismo e quindi tutti gli anni di resistenza che comprendono quella immediatamente successiva al 25, alle leggi fascistissime. Poi c'è la lotta armata, la lotta armata che è la lotta quella, diciamo, più rivoluzionaria, ma che non inizia banalmente dopo l'8 settembre e basta, ma che si svolge, per esempio, anche nella guerra di Spagna. Anche quello è un laboratorio, un acceleratore per la costruzione di una guerra resistenziale che sconfina anche nella lotta armata. Quindi c'è la classica definizione per cercare di capire questo fenomeno così complesso, no? La definizione più classica è quella di Pavone, quando parla di guerra civile patriottica e di classe. Ma la definizione che interessa a noi e in cui noi collochiamo la nostra analisi e in cui noi collochiamo l'analisi della resistenza europea e federalista è quella di Bobbio. Bobbio dice, chiaramente, i motivi ispiratori della resistenza europea si possono disporre su tre livelli, secondo che si consideri come guerra di liberazione nazionale in nome dell'indipendenza, come guerra contro il fascismo in genere contro il dispotismo in nome della democrazia liberale, come guerra per un nuovo assetto sociale contro ogni tentazione di restaurazione dell'antico regime. L'ideale federalista si pone su questo terzo livello, la resistenza non come restaurazione, ma come innovazione. La resistenza che deve insieme chiudere e aprire, distruggere per costruire, essere negazione non in senso formale ma in senso dialettico, che non deve limitarsi a vincere il presente ma deve inventare il futuro. Il federalismo fu ed è tuttora una di queste invenzioni storie. È in questo filone qui che noi collochiamo la resistenza federalista. E adesso andiamo a sviscerare, a capire perché. Innanzitutto, perché la resistenza è definibile ed è definita come un fenomeno europeo? È chiaro che si possono fare delle similitudini o tutti i fenomeni resistenziali a un regime occupazionale. È chiaro, cioè si può fare un parallelismo o trovare moltissimi contatti con la resistenza di Jugoslavia, con la resistenza in Unione Sovietica, con la resistenza in Nord Africa, con la resistenza, che ne so, anche in Cina. Però la resistenza europea ha una sua precisa collocazione geografica e delle sue precise caratteristiche che la trasformano in un fenomeno unico perché è un laboratorio che ha dei legami che sono già di per sé quando nascono paneuropei. Perché qui c'è una definizione, quella è stata data, cioè che è la più famosa, che è la migliore che io credo come interpretazione di guerra civile europea, quella è data traverso e poi c'è l'interpretazione del sistema degli stati europei, che è quella che dà in equilibrio egemonia ad io. Allora, la guerra civile europea perché? Perché la prima guerra mondiale è stata un ponte tra 8 e 900, ma ha soltanto anticipato il processo perché ancora nella prima guerra mondiale, cioè ancora esistevano degli stati che, almeno inizialmente, si facevano la guerra secondo il classico sistema degli stati nazionali europei, quindi una lotta fra l'equilibrio e l'egemonia nel sistema degli stati vesfaliani, fra grandi potenze sul continente si contrappongono. Nella seconda guerra mondiale crolla completamente questo sistema e soprattutto la guerra non conosce confini, ma è una guerra civile che si affronta e si combatte su scala continentale, cioè è una guerra che viene combattuta dentro e fuori dai confini da differenti interpretazioni della del corso della storia, diciamo del processo di civilizzazione o decivilizzazione, ho chiamato l'uomo e volete. E poi soprattutto la cosa che dicevo prima, cioè esiste un nemico comune, cioè c'è una solidarietà trasnazionale antifascisti, esiste, cioè c'è una forte comunanza ideologica che conta molto di più del, molto spesso, dell'appartenenza nazionale. Quindi nascono e proliferano questi legami organizzativi e i documenti comuni. Allora cerchiamo adesso di fare un rapido, un rapido escursus di questi progetti, di questi movimenti che nascono in Europa e che contemporaneamente, spesso anche in misura autonoma, no? Cioè si sviluppano. Io vi ho riportato solo alcuni esempi, innanzitutto di alcuni precedenti interessanti, perché non è che il movimento federalista europeo è il primo movimento politico, no? Che fondato a Milano nel 43 è il primo movimento che si batte per l'unità del continente europeo. No, non è vero. Prima di loro c'era stato per esempio Pan Europa di Calergi, che aveva cercato, no? Molto spesso aveva portato anche a interessanti conferenze intergovernative e ha secondato la diplomazia della società delle nazioni. C'era Federal Union, che parallelamente si sviluppava in Gran Bretagna, che è quello che ha portato e addirittura ha influenzato il tentativo poi fallito di unione federale tra Francia e Gran Bretagna. Cioè esistevano dei movimenti politici, però erano delle minoranze. Ci sono state anche nel passato, c'è un bellissimo libro di Lucio Levi, che è Il pensiero federalista, che fa proprio un escursus che parte dalla rivoluzione americana e da Kant, dalla pace perpetua di Kant, e fa proprio un filone della costruzione del pensiero federalista e nel corso della storia avanza. Però è chiaro che bisogna distinguere chiaramente dei momenti filosofici, utopistici e poi dei tentativi più scientifici di realizzare questa battaglia per l'unità europea. Cioè quindi quando è che l'unità europea smette di essere un'utopia e diventa un progetto realizzabile? Vedremo e poi questo sarà uno dei pregi del manifesto di Ventotelli. C'è la rosa bianca, cioè non dobbiamo dimenticare per esempio la rosa bianca di Sophie Scholl e di cui tra l'altro il prossimo anno io credo che sia l'anniversario della nascita, perché mi sembra che sia nata il 9 maggio del 21, tra l'altro. Comunque è importantissimo ricordare l'esempio della rosa bianca e della pura forma di resistenza che si sviluppa insieme a questi studenti, vi date da un professore che forse ha conosciuto il federalismo tramite probabilmente la filosofia kantiana, sono riuscito a fare una serie di volantinaggi, qualche azione eclatante prima di essere quasi tutti condannati a morte dal regime nazista. C'è Combat fondato da Henri Frenet che nel dopoguerra sarà uno dei protagonisti dell'UEF, c'è in questo tra l'altro in Combat in Francia c'è Camus che dirige il giornale che è molto vicino al partito d'azione, c'è Liberère Federère che è guidato da Trentin a Tolosa, poi Trentin guiderà, verrà a fare la battaglia di resistenza con tutta la sua famiglia, tra l'altro la famiglia Trentin partecipa tutta integralmente alla resistenza. È una storia incredibile, non approfondisco. C'è per esempio in Francia il Movimento di Liberazione Nazionale che riprende la dichiarazione di Ginevra nel suo stesso statuto, che cos'è la dichiarazione, nel suo stesso proclama, cioè che cos'è la dichiarazione di Ginevra? Nel 44 tanti, cioè Spinelli e Rossi, insieme a una squadra e diventano proprio, cercano di costruire un tentativo di esportazione del federalismo sul piano europeo e riescono a casa del pastore Wisserthof, insieme a delegati da dieci nazioni, alcuni membri erano rimasti bloccati in Svizzera della Società delle Nazioni, approvano una dichiarazione federalista dei movimenti di resistenza europea. Riesce ad avere una certa diffusione, come vi dicevo l'MLN in Francia lo adotta anche nel suo proclama rivoluzionario. Inizialmente suscita grande entusiasmo perché sembra che finalmente i federalisti siano riusciti a dare un afflato europeo alla loro lotta resistenziale, poi come vedremo a parte effettivamente questo successo in Francia e una breve diffusione nei partiti, in alcuni partiti politici, diciamo lo sbocco di tutto questo va a concludersi in un grande congresso a Parigi nel 1945 dove partecipano delle personalità eminentissime, partecipa George Orwell, appunto Camus partecipa un congresso importantissimo organizzato da Spinelli e in particolare organizzativamente da Ursula Hirschman. Il problema è che purtroppo una volta completato questo congresso come vedremo la realtà politica che si realizza nel 45 è ben differente da quella analizzata nel corso del manifesto di Ventotene, quindi anche gli stessi federalisti hanno delle difficoltà a trovare uno sbocco per la loro battaglia politica. Questo per dirvi che cosa? Che come esistono dei precedenti nei movimenti europei, esistono dei precedenti nelle teorie, nei movimenti nazionali. Anche qui come prima ve lo ridico, considerate il pensiero federalista a un percorso secolare che taglia la storia di tutti i grandi pensieri, no? Cioè voi come sapete non esistono gli ismi nella storia, no? Quindi chiaro che quando parliamo di federalismo facciamo una semplificazione per costruire un contenitore che ci fa comodo, ma il pensiero federalista taglia trasversalmente il pensiero liberale, socialista, democratico, cioè quindi è complicato, no? Cioè esiste tutto un percorso secolare su cui possiamo costruire un percorso della storia del pensiero politico federalista. Qui vi ho messo dei precedenti più prossimi, che sono Federazione Europea o Lega delle Nazioni, senza alto, di Agnelli e Cabiati, che contiene insieme anche alle lettere di Junius, di Enaudi, la critica migliore forse federalista ai limiti della società delle nazioni. Vi ho messo gli Stati Uniti d'Europa e il fascismo di Turati che rappresenta quell'ala socialista anche che si distanzia un po' dal pacifismo democratico e poi soprattutto vi ho messo europeismo, fascismo e socialismo liberale di Rosselli perché sono i pilastri su cui si fonda e si forma anche Ernesto Rossi e contengono già un appello agli Stati Uniti d'Europa, cioè quello europeismo-fascismo lo dice chiaramente, cioè che l'Europa deve, tra l'altro insieme anche al pensiero di Salvemini, cioè già qui è contenuto sia la critica alla civiltà europea, sia anche la critica al pacifismo in belle, tra virgolette, e oppone come reazione a diffondere il nazifascismo il coinvolgimento nelle masse, nell'elaborazione della situazione europea, cioè questo per farvi aprire quanto sono già avanzate queste cose. Altre cose che parallelamente poi si svolgono al manifesto di Ventotene, ve ne ho messe alcune, ho messo la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, cioè la carta di Chivasso perché è una delle più importanti, senz'altro, della resistenza italiana e soprattutto, vabbè, Valdostana, ci hanno partecipato alla stesura dei personaggi molto noti, Chanot, Roliè ha inviato un testo per partecipare al dibattito anche Chabot, cioè la carta di Chivasso è quella che oltre a dichiarare sostanzialmente la necessità dell'autonomia si fonda veramente il federalismo autonomista su questo punto di vista qui, c'è un forte richiamo al federalismo europeo. L'ordine politico delle comunità, cioè Olivetti, con il federalismo anche qui autonomista, che è differente chiaramente dal federalismo, anche io infatti bisognerebbe parlare di federalismi e non di federalismo, cioè il federalismo di Olivetti è differente dal federalismo derivato da Federal Union, da Federisti anglosassoni, ma come dal federalismo istituzionale eccetera, però è importantissimo da ricordare. Così come sono da ricordare tutti i programmi dei partiti politici che poi riescono in un certo momento a incamerare, a respirare questo afflato europeo. Chiaramente quello che va ricordato più e prima di tutti è il partito d'azione. Gli altri con grande difficoltà e federalisti europei riusciranno a permeare, ma piano piano ci riusciranno più o meno con tutti, tranne il partito comunista e forse un pochino più restio, ma ha comunque un'apertura europea in questi anni qui, poi successivamente si distanzierà radicalmente condannando chiaramente qualsiasi svolta possibile europea per ritornare poi a riabbracciare, anzi a abbracciare forse veramente per la prima volta il federalismo soltanto quando deciderà di candidare come autonomo Spinelli al Parlamento. al Parlamento. Quindi il discorso è che, vabbè, poi c'è la democrazia cristiana e effettivamente in un certo momento sposa il progetto federalista. Vabbè, comunque, poi vi ho messo alcuni movimenti federalisti minori che nascono e hanno il loro sviluppo, c'è l'Associazione dei Federalisti Europei di Calamandrei e di Bercanini, c'è il Movimento Autonomista della Federazione Europea che poi si unirà al Movimento Italiano di Solidarietà Europea. Cioè, ci sono tanti movimenti e poi molto spesso andranno a confluire nelle fila del Movimento Federalista Europeo o avranno anche un loro sviluppo parallelo. Ora, la cosa che ci interessa è arrivare al manifesto di Ventotene. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi della resistenza federalista da Ventotene all'Ethalia e parlarvi dei singoli grandi esempi, quindi Colorni, Gisburg, Boris, Spinelli e Rosse, qui vi ho detto, ve ne ho messi cinque, ma ci sarebbe sulla Hirschman, ad Arossi, cioè si potrebbe parlare di un sacco di personaggi che hanno fatto, vabbè, lo stesso Roliè che vi ho citato prima. Teoricamente ci sarebbero tantissime figure da ricordare. Poi se le volete approfondire nel dibattito le approfondiamo, però è complicato, chiaramente, fare un punto specifico su ognuno. Poi se volete lo facciamo, però direi di andare innanzitutto a parlarvi più che della resistenza federalista che c'è stata, ha dato il suo contributo e ha pagato anche il suo caro prezzo in termini di costi e di vite umane. Quello che vi vorrei parlare adesso, visto che ci interessa, abbiamo fatto un percorso e ci ha portato fin qui, è il manifesto di Ventotene. Allora, innanzitutto il manifesto di Ventotene è, voi come sapete, è stato attualizzato, ci sono tentativi di strumentalizzarlo a destra, a sinistra, da euroscettici, da federalisti, più o meno federalisti. Da tutte le parti viene tirato in mezzo il manifesto di Ventotene. Allora, innanzitutto cerchiamo di fare un po' di arezzo. Parliamo del nome vero. Il nome vero non è il manifesto di Ventotene, ma è il manifesto per un'Europa libera e unita. È stato scritto da dei confinati, quindi materialmente scritto da Rossi e Spinelli, però alla sua stesura hanno contribuito un largo gruppo di persone. Un largo gruppo di persone che voi dovete immaginare che non aveva accesso alle informazioni come abbiamo noi oggi. Quindi immaginate la difficoltà di reperire le informazioni, anche se ci aveva Rossi un buon servizio di, diciamo, di informazione tramite le lettere, però Spinelli meno, perché essendo stato escluso dal Partito Comunista era molto più isolato politicamente, però cioè quello che ci interessa a noi è che chiaramente queste persone tra l'inverno del 40 e l'estate 41 nel pieno del trionfo nazifascista riescono a teorizzare sostanzialmente la svolta della guerra e la crisi dell'egemonia politica nazifascista. Quindi già per questo, diciamo, è un documento geniale. Ora, è chiaro che è un documento che va contestualizzato tra l'inverno del 40 e l'estate del 41. Quindi, nonostante questi confinati fossero degli illuminati che erano in grado di parlare almeno 4-5 lingue, parlare, scrivere e leggere, cioè che erano persone che durante il dibattito che ha maturato per arrivare alla stesura di questo manifesto parlavano regolarmente di tutto, cioè dal paradigma delle scienze alla psicologia, al significato della vita, cioè dal ragionamento filosofico a quello più politico e attuale. Cioè, dovete immaginare che era gente che aveva una capacità e una preparazione multidisciplinare, diremmo oggi, che è difficilmente pensabile. e queste persone, poi chiaramente che arrivano a scrivere il manifesto, sono solo Rossi e Spinelli, però che collaborano, cioè tutto questo gruppo. Allora, chiaro che le fonti principali, però, provate un po' a riportare, ma senz'altro sono i contenuti e l'analisi hanno fatto Rossi e Spinelli nel corso degli anni. Personalmente sono riusciti a elaborare e quindi si va chiaramente da... c'è chi dice federalisti inglesi, in realtà i federalisti inglesi li leggeranno solo in Svizzera. E più il tramite di Eonauti e gli insegnamenti della rivoluzione americana, e sono arrivati e hanno inciso tutta l'esperienza, diciamo, in giustizia e libertà di Rossi, quindi l'insegnamento di Salvemini. E in Spinelli, senza altro, c'è chiaramente tutto, diciamo, l'eghelismo sporcato da Kant, cioè c'è tutta questa roba qua, per cui noi abbiamo un manifesto che ci è arrivato a oggi, che si sviluppa, diciamo, poi c'è un dibattito molto forte tra il manifesto di Ventotene più kantiano e più hegeliano, cioè quello che ci interessa è che in realtà al centro del manifesto di Ventotene c'è uno sviluppo che ha una tesi, senza altro, e possiamo definire che è il principio della libertà che si afferma in un primo momento nello Stato nazionale e nella garanzia della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini, c'ha l'antitesi, che è il paradosso per cui lo Stato nazionale stesso da meccanismo di progresso si trasforma in totalitarismo e scatena la crisi della civiltà e diventa un elemento di reazione e di servitù della libertà, e poi la sintesi, cioè qual è il nuovo sviluppo della libertà. Chiaramente il manifesto di Ventotene voi lo vedete scritto per punti come lo scriverebbe Rossi, però il ragionamento dialogico è molto simile a quello filosofico hegeliano, e la sintesi è la federazione europea, federazione europea che viene spiegata non in modo deterministico, non con una filosofia della storia alle spalle, ma come un'analisi del presente. In base a queste scelte qua che vengono fatte nel manifesto di Ventotene si può salvare la civiltà europea, come si fa tramite un partito rivoluzionario che giacobinamente guida le masse sbandate dal crollo dell'indottrinamento nazifascista. E' chiaro che era datata questa roba qui, e si basava su chiaramente una forte sfiducia anche del contributo delle masse alla storia. Voi immaginatevi dei confinati che vengono da anni e anni di galera, poi al confino, dove hanno visto il fascismo che nel senso non è, che è salito al potere unicamente con la violenza. A un certo punto le masse sono, accorrevano, cioè erano da quella parte della storia. Quindi c'è chiaramente un forte connotato giacobino, c'è chi addirittura ha detto leninista, addirittura bolshevico, nel contenuto del manifesto di Ventotene, ma va contestualizzato a quel periodo storico. Ora cerchiamo di capire cosa sono, quali sono i punti d'attualità del manifesto di Ventotene. Tra l'altro il manifesto di Ventotene, anche questa è una narrazione che va probabilmente immediatamente interrotta prima che venga introdotta anche nel dibattito. Il manifesto di Ventotene non fonda l'unità europea. Allora, se accettiamo che l'unità europea, l'Unione europea sia un percorso che ha una scuola dal basso e dall'alto, senz'altro è uno dei momenti fondativi del percorso dell'unità europea, che allora fonda le sue radici nella resistenza. Però, cioè, non è che il manifesto di Ventotene è uguale Unione europea, come viene fatto spesso questa connotazione qui, cioè che l'Unione europea è uguale Europa dei federalisti europei. Perché molto spesso si fa questa confusione e viene fatta anche in modo strumentale, in particolare ultimamente, che l'abbiamo visto, per esempio, nella relazione è stata fatta nella macchina del vento di Buming, no? Cui Unione europea è uguale federalismo di Ventotene. Non è così, ovviamente, no? Questo non c'era neanche bisogno di dirlo, probabilmente, però è per farvi capire, no? Questo spettro che si aggira nell'Europa, che è il manifesto di Ventotene, viene citato a destra e a manca, ma molto spesso non se ne guarda il contenuto. Allora, guardiamo gli elementi di attualità. Anzitutto, dal punto di vista teorico, un elemento che è comune all'analisi molto spesso degli anni 30 è quello della crisi della civiltà moderna, che ha riconosciuto oggi una nuova fortuna, cioè l'analisi della crisi della civiltà oggi è una... attraverso molti parallelismi è diventato un paradigma di analisi che è molto utilizzato, cioè per dire che la civilizzazione è un processo che si è portato avanti dentro e fuori gli stati, cioè c'è stato un processo di civilizzazione all'interno degli stati, cioè con la vittoria del diritto e la progressiva libertà e costruzione anche di una... diciamo di un'uguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale, cioè c'è stato un processo in cui la civiltà europea è avanzata, ma si parla anche di civiltà globale, e poi c'è stato un momento in cui effettivamente non è un fenomeno che necessariamente va avanti nel tempo, ma c'è un momento di rottura e di inizio di decivilizzazione. E quindi oggi si parla molto spesso della stessa contraddizione della crisi della civiltà, se lì si parlava della crisi della civiltà moderna, oggi potremmo parlare della crisi della civiltà contemporanea, ma non approfondisco. La crisi, l'altro punto di vista teorico che viene trattato e che ha ancora oggi veramente un'attualità, è la critica e l'evidenzia... la messa in evidenza della crisi dello Stato nazionale di fronte allo sviluppo delle forze materiali e dell'anarchia internazionale. Cioè, che vuol dire questa cosa qui? Che vuol dire che lo Stato nazionale, fin dalla Prima Guerra Mondiale, ma in particolare la Seconda Guerra Mondiale, diventa evidente, non è più sufficiente a sostenere lo sviluppo della modernità. Cioè, le forze produttive, banalmente, sono strette dentro i confini nazionali. E questo è evidente nel tentativo, per esempio, di unire, cioè di allargare lo Stato nazionale attraverso l'imperialismo. Cioè, diventa un elemento di conquista, la ricerca dell'Ebenzraum, dello spazio vitale di una nazione. Ma perché? Perché banalmente le forze produttive, cioè lo sviluppo economico, possiamo dire, utilizzando anche un termine derivato dal materialismo storico, cioè rimane costretto all'interno dei confini dello Stato nazionale. E quindi questo lo pone in crisi e lo costringe a allargarsi per non soffocare. E poi, cioè, questa cosa però entra in contraddizione in un punto sostanziale, cioè con il dogma della sovranità assoluta degli Stati in un contesto di anarchia internazionale. Cioè, se io riconosco solo la mia autorità sul piano internazionale, è chiaro che prima o poi arriverò a un conflitto, perché se all'interno degli Stati, cioè questa è la contraddizione classica che i federalisti dicono sempre, no? Cioè, se io all'interno degli Stati ho un tribunale, un diritto che non permetta la vittoria della legge del più forte sostanzialmente, all'esterno degli Stati questa cosa non esiste. E quindi esiste un contesto di anarchia internazionale in cui lo Stato più forte ha tutto il diritto di far valere il suo interesse su quello degli altri. E quindi c'è uno Stato di natura, paradossalmente, che viene mantenuto. E' su questa contraddizione qui che i federalisti costruiranno il loro punto di vista strategico. Cioè, la portata rivoluzionaria del progetto federalista e l'attuabilità, cioè qui e ora, delle idee del Manifesto di Ventotene. Cioè, il Manifesto di Ventotene è importantissimo e che per la prima volta nella storia si stidisce che se si prenderà delle decisioni specifiche, si potrà fare la Federazione Europea. Cioè, non è più un qualcosa di utopistico o di ideale. Cioè, se si prende e si fanno questi passi qui e si sta a sentire il partito rivoluzionario, si va verso la Federazione Europea. E soprattutto, una cosa essenziale, è la critica all'internazionalismo. Cioè, la critica ai limiti della visione internazionalista delle grandi ideologie. E questo è importantissimo perché è la contraddizione per la quale, se non si risolve prima il problema di come garantire la pace istituzionalizzando i conflitti attraverso le istituzioni federali, non si risolvono mai effettivamente le ideologie internazionali. Perché? Perché a un certo momento rimangono soggiogate dal predominio della necessità, del conflitto degli stati nazionali. Cioè, questa cosa succede e è successa nella storia continuamente. Poi vedete, no, col tentativo socialista, cioè, per esempio, quello forse più noto, cioè i socialisti dell'internazionale, che hanno provato a fermare la Prima Guerra Mondiale, in ogni modo possibile, alla fine si sono trovati a votare i debiti di guerra. Cioè, perché l'ideologia internazionale, prima o poi, rimane contraddetta, rimane anche lei soggiogata dall'ideologia nazionale. È per questo che è importantissima, cioè, la critica all'internazionalismo che si fa nel Manifesto di Ventotè, perché si riconosce che finché non si risolve la contraddizione di garantire la pace, le grandi ideologie, liberalismo, la stessa democrazia, il socialismo, non potranno mai avere uno sviluppo. E per svilupparle sarà necessario garantire la pace. Allora avranno e potranno avere un futuro. E su questa base qui viene fatta la linea di divisione tra progressisti e reazionari. La nuova linea di divisione di progressisti e reazionari, avete sentito decine di volte, fra chi ha capito che sostanzialmente bisogna battersi per l'unità europea, invece che continuare a rimanere all'interno degli stati nazionali. a prescindere dal partito, chiaramente. Poi, successivamente, qui vi ho scritto e poi chiaramente verrà fondato, successivamente il Movimento Federalista Europeo si prenderà una scelta politica diversa, ma perché? Perché si ritiene immediatamente superato già il Manifesto di Ventotè, già alla fondazione del Movimento Federalista Europeo, nel carteggio ci sono tra Colorni, Spinelli, già Colorni dice che bisogna fare parallelamente la tattica intrista nei partiti, la fondazione di un movimento politico che sì, quello deve essere rivoluzionario e parlare alle masse, ma un movimento politico. Questo era per farvi un apparente sul Manifesto di Ventotè, ne sono stato molto rapido, quindi vi prego e se volete approfondire dei punti specifici, li approfondiamo. I limiti della resistenza federalista, quali sono stati? La mancata struttura organizzata sovranazionale, la difficoltà di dotarsi di un'organizzazione politica sovranazionale vera e propria, la scarsa capacità di collegarsi alle masse, alle forze popolari, è rimasto un'idea minoritaria. E poi il problema più grande sono stati i problemi storici, cioè che non hanno responsabilità, chiaramente, nella classe dirigente politica federalista, ma che è stata la storia a segnare. Cioè l'Europa è stata ricostruita innanzitutto sugli stati nazionali, ma soprattutto l'Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale non poteva fare la rivoluzione federalista per un fatto banalissimo, perché l'Europa era occupata e divisa dalle due grandi potenze. Poi l'altra cosa per cui effettivamente i federalisti non avevano ragionato era lo sviluppo successivo della guerra fredda. E poi l'altro punto essenziale è la fine della lotta rivoluzionaria, è l'inizio dell'integrazione europea con il compromesso del progetto funzionalista. Cioè si inizia a fare l'Europa a pezzetti, come direbbe Russia. Allora, qual è l'attualità oggi di quelle idee che vi ho provato a portare nel manifesto di Ventotene? E perché i federalisti in tutti gli anni successivi hanno continuato a dire che la resistenza non è ancora finita? Allora, i federalisti c'è da dire una cosa, cioè sì erano una minoranza, ma hanno colto una tendenza dei tempi che è rimasta attuale. Innanzitutto c'è anche da dire che hanno provato a portare avanti la loro lotta antifascista in una serie di eventi che poi ci portano fino al Movimento Federalista Europeo di oggi. Cioè i federalisti hanno partecipato nel corso dei decenni e li hanno organizzati i comitati Europa-Spagna per combattere in funzione antifranchista. Tra l'altro c'è un caso anche molto noto che ha causato anche un'interrogazione parlamentare, ha fatto molto scalpore sui giornali perché i neofascisti hanno anche aggredito Spinelli e Rossi. Spinelli si è anche messo a menare in quel caso là. Cioè ci sono state anche delle denunce, delle condanne, è un caso molto interessante, non se ne parla mai, però per esempio i federalisti hanno avuto un ampio ruolo nel tentativo di costruire e cercare anche di alimentare il dibattito democratico in Spagna in funzione antifranchista. L'altra cosa è stata l'opposizione all'istituzionalizzazione e formazione neofascista, quando negli anni 70 c'è stata una coalizione che era messa al bando del movimento sociale e i federalisti hanno partecipato in tutti gli anni 70 fino agli anni 80 a numerosi scontri contro i nazionalisti e contro i fascisti. In particolare ci sono stati dei casi a Torino, per esempio il corteo del 4 novembre, insomma i federalisti si sono dati da fare per portare avanti ancora la battaglia antifascista. Ma quello che interessa a noi in realtà è la concretizzazione di un concetto ancora più importante, che è quello della resistenza come incompiuta e inconclusa, addirittura la resistenza tradita. Ma questo perché? Perché effettivamente i federalisti immediatamente, già dal dopoguerra in particolare o l'ampagna del congresso del popolo europeo, abbracciano una definizione diciamo teorica e delle lenti per interpretare la resistenza, per cui sono consapevoli di una cosa, cioè la crisi dello Stato nazionale, che è ben argomentata nel manifesto di Ventotene che abbiamo descritto prima, rivela, come vi ho detto nel meccanismo tesi, antitesi, sintesi, una cosa semplicissima a capire, che il fascismo, il nazismo non cadono dal cielo, non sono delle aberrazioni che nascono dal caso e che scompaiono naturalmente. Il fascismo e il nazismo, con tutte le declinazioni, poi chiaramente un fenomeno non si ripete mai allo stesso modo nella storia, ma nelle deformazioni che possono realizzarci anche nella contemporaneità possono tornare perché sono connaturate al sistema e alla crisi dello Stato nazionale. Il fascismo, il totalitarismo nasce dai limiti imposti allo Stato nazionale, dallo Stato nazionale diventa da elemento di progresso, ve l'ho già detto, elemento di reazione. Il meccanismo porta alla crisi dello Stato nazionale, noi non lo abbiamo mai risolto davvero. Ci sono ancora oggi, e questo dicono i federalisti e per questo dicono la resistenza non è ancora finita, quelle vecchie aporie che non abbiamo mai risolto con la fine della Seconda Guerra Mondiale. È vero, abbiamo fatto dei passi avanti da gigante, abbiamo dato al mondo delle istituzioni multilaterali, abbiamo dato all'Europa un processo che l'ho messo in campo e che è iniziato e ha continuato, che ha garantito il più lungo periodo di pace di sempre. È verissimo, l'Europa è diventato un potere politico, cioè sarebbe da Bischeri, si dice in Toscana, no? Non rendersi conto che l'Europa ha un potere effettivo, cioè esistono delle istituzioni comunitarie che hanno un potere che è in competizione molto spesso anche con quelli degli Stati nazionali. Però non basta e lo vediamo nelle contraddizioni contemporanee, nel ritorno degli afflati nazionali che chiaramente, fino ad ora, hanno rischiato con una ventata di rigovernare il mondo. Il multilateralismo è stato di nuovo messo in crisi al nazionalismo competitivo. Se voi guardate al mondo governato da Trump, Putin, Modi, Orban, in Turchia, cioè il nazionalismo competitivo è diventato improvvisamente l'alternativa credibile possibile al multilateralismo sul piano globale, ma anche europeo, no? La Le Pen, Front National, il successo della Lega di Saldini in Italia. E il nazionalismo è tornato a parlare alle masse. Ma perché? Perché lo Stato nazionale non aveva prima, e nonostante l'inganno oggi del surrogato che abbiamo fatto per farlo sopravvivere, no? Con la delega progressiva della sovranità, le istituzioni comunitarie, per cui paradossalmente noi crediamo che lo Stato nazionale sia ancora un elemento attivo, no? Nella capacità di rispondere, di problem solving nella politica contemporanea. In realtà non è così. E questa contraddizione fra delle istituzioni che non sono in grado di risolvere i problemi, ma che paradossalmente sono l'unico interlocutore riconosciuto dalle masse, ha creato il cortocircuito in cui ci troviamo oggi. Per cui il nazionalismo è tornato preminente. È tornato a far paura. Ora, se Dio vuole, cioè abbiamo, cioè con la pandemia e con la risposta europea, c'è stato un freno a tutto questo. Anche l'ultima elezione europea in realtà avevano segnato un freno al ritorno del nazionalismo europeo. Speriamo che le prossime elezioni americane diano una frenata globale al nazionalismo sul piano internazionale. Però è stata la dimostrazione che se noi non risolviamo questa contraddizione qua dei limiti delle istituzioni e della crisi degli stati nazionali, noi non possiamo definirci veramente al sicuro. E in questo senso concludo, cioè leggendovi questo 25 aprile del popolo europeo che lo spiega chiaramente. Questo è del 59, un articolo del 59 che è molto carino e dice, ora la ragione del fallimento della resistenza è tutta qui. Quei regimi corrotti ed oppressori si sono ricostituiti e sebbene squinternati e inefficienti dominano ancora interamente la nostra vita politica. Sbarrano la strada ogni solida intesa costruttiva che tra i popoli sorgerebbe normale. L'errore in cui cadde la resistenza fu di credere che la costruzione di una comunità europea, cui tutta la resistenza tendeva per suonaterale e senza, di guerra, senza frontiere, passasse per la ricostruzione degli stati nazionali. Abbiamo fatto purtroppo l'amare esperienza che quegli stati nazionali portano in sé naturalmente i germi del nazionalismo, del colonialismo e del fascismo e che vanno a chiedere loro di rinnovarsi e di aprire più civili prospettive di sviluppo e di libertà per i loro cittadini. Su questo errore sarebbe del tutto sterile e recriminare, ma resta la lezione che bisogna trarne. Resta soprattutto l'impegno che tutti abbiamo contratto verso i nostri poveri morti di continuare a lottare per giungere là dove essi non hanno saputo o potuto arrivare, perché il crollo finale dell'Europa non travolga con tutti gli altri anche i valori per cui essi si sono sacrificati. La resistenza contro l'Europa degli stati nazionali, contro l'Europa franchista interreazionaria continua, perché è su questo che si fonda la lotta federalista, non su un singolo valore che è la pace, ma su una circolarità di valori che garantiscono la pace e questa circolarità di valori, non una piramide che ha un vertice e ha delle basi, ma una circolarità per cui se manca uno non si realizza l'altro. Ha al centro la libertà, la democrazia, la giustizia sociale e la pace e questi valori qua formano, se voi ci pensate poi chiaramente, la sintesi delle grandi ideologie del secolo passato. Oggi verrebbe da aggiungersi a questa visione classica del federalismo negli anni sessanta, settanta, poi è diventato, poi c'è tutto il suo sviluppo del federalismo ideologico, ci sarebbe da aggiungerci probabilmente la solidarietà e la sostenibilità a questi valori qua, con tutto il tema ambientale. Però su questo mi taccio e direi che vi lascio di nuovo la parola. Giulio grazie perché hai fatto veramente in poco tempo un escursus molto approfondito e hai chiarito molte cose in realtà e quindi veramente grazie, specialmente nell'ultima parte ho trovato molti spunti utili e comprensioni utili. Siamo in tanti collegati e vedo anche che ci sono delle provocazioni in chat. Io proverei a lasciare la parola a voi, chi vuole si può attivare il microfono e porre delle domande. Anche Renzino l'Europeo che ci fa queste provocazioni, sbagliato dire che gli stati nazionali portano naturalmente i germi del nazionalismo e del fascismo. Certamente questa dei federalisti è una tesi che nasce proprio dall'esperienza della prigionia, dell'esperienza del confino, dell'esperienza delle guerre scatenate in Europa in quegli anni dalla competizione degli stati. Partono da un'esperienza. Vorrei capire ad esempio se è piacere di parlare qual è l'esperienza di Renzino che lo porta a dire ad esempio questo. i germi del nazionalismo e del fascismo non sono connaturate agli stati nazionali perché è bene riuscire a confrontarsi su questi temi. Io vedo che stanno rinascendo a livello anche nazionale i propri movimenti che si ridefiniscono sovranisti in tutti gli aspetti e guardano con sospetto invece tutta l'attività di costruzione di un processo di unità europea, il multilateralismo, anche perché viene spesso confuso con la globalizzazione e con il liberismo economico. Quindi facciamo bene il punto su questa cosa e lascio a voi la parola. Magari possiamo decidere a chi dare la parola perché... Vorrei che intanto vediamo se le persone se la prendono e se hanno piacere di intervenire. Intanto lascerei che... dopo chiaramente se vediamo che nessuno interviene possiamo continuare... Sono stati... è possibile accendere i microfoni delle persone che parlano? Fabio, se vuoi intervenire, puoi intervenire? Sì, ecco, non volevo intervenire magari bloccando qualcun altro che aveva intenzione di dire la sua. Io vorrei suscitare una riflessione rivolgendo principalmente al professor Saputo le domande che sto per fare relativamente ai limiti del progetto stesso che viene delineato già nel manifesto di Ventotene. Partendo prima da... brevemente insomma da un confronto con il federalismo americano che è comunque il grande punto di riferimento per ogni progetto europeo che si voglia concepire. E dall'altro lato per riflettere su un limite essenziale del movimento federalista in generale, cioè l'assenza o quasi di progetti concreti per strutturare le istituzioni europee, nel vero senso della parola. Cioè quali sono i limiti di un eventuale governo federalista? Chi dovrebbe gestire questi poteri limitati e dovrebbero essere conferiti al governo federalista? Parto dal confronto con gli Stati Uniti perché secondo me nel... già nel manifesto di Ventotene che ha alle spalle comunque in buona parte la tradizione azionista, c'è un limite fondamentale di quella tradizione e c'è una tradizione di tipo intellettualista. Il federalismo americano parte dal basso, non parte dall'alto, cioè parte dalle esigenze dei singoli Stati che decidono di mettere in comune alcune materie. Non parte da un progetto che un'elite elabora, parte da una esigenza concreta di difendersi da eventuali nuovi contrattacchi della Gran Bretagna dopo che si è ottenuta a fatica l'autonomia. Questo è il primo aspetto. Quindi l'approccio americano è un approccio molto pragmatico e probabilmente la fatica di arrivare ad una Unione Europea è anche data dal fatto che bisognerebbe fossero gli Stati per primi, gli Stati membri dell'Unione Europea, a sentire l'esigenza della federazione. E invece si rimane ad una discussione che è spesso una discussione di una elite che non fa presa né sulle realtà statali, sui governi statali, né tantomeno sulle masse degli Stati. È più facile parlare il linguaggio sovranista. Bisognerebbe riuscire forse a far comprendere meglio l'esigenza di questa unità partendo dall'esempio americano. Dall'altro lato, quello che nei vari progetti federalisti secondo me manca da sempre è una chiara definizione dei limiti del governo federale. Di nuovo tornando all'esempio degli Stati Uniti, le materie del governo federale sono tutto sommato abbastanza semplici. Difesa delle frontiere, politica estera, moneta, commercio. In particolare dogane in entrata e in uscita sui prodotti. Cioè tasse in entrata e in uscita sui prodotti. Queste sono le quattro materie fondamentali del governo federale. Poi quel governo federale per varie ragioni ha allargato il suo ambito di competenza e adesso gli Stati Uniti sono di fatto uno Stato nazionale. Le autonomie ci sono dei singoli Stati, ma è un governo che ha un forte potere governativo centrale. Ecco, lì la definizione dei poteri dello Stato c'è stata fin dall'inizio con una chiara definizione del ruolo del congresso, ruolo del governo federale, le modalità di elezione del Presidente degli Stati Uniti e così via. Mi pare che manchino un po' queste idee molto chiare nella mente anche del progetto federalista. Cioè l'organismo legislativo, come dovrà essere fatto, da quali componenti, come dovranno essere votati quei membri, il governo, da chi dovrà essere composto, come dovrà essere scelto e così via, per arrivare poi al potere anche giudiziario. Ecco, quindi io rivolgo al professor saputo queste provocazioni, nel senso che sono spunti di riflessione per capire che c'è un limite essenziale forse già nel progetto di Ventotene. Giulio vuoi raccogliere altre domande o rispondi a queste? Come preferite, se volete inizio a rispondere intanto. Se no, raccogliamo altri spunti, se ci sono volentieri. Io vorrei dire, vediamo se mi sento, Lorenzo, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, volevo solo continuare su un piccolo aspetto riguardante che il problema del rapporto tra il movimento federalista e quello che è stato definito prima dal professore uno dei punti deboli, e cioè il rapporto, diciamo così, con le masse. Allora, si tratta di capire se si tratta di un rapporto complicato, perché è difficile parlare con le masse, oppure se è un rapporto in qualche maniera conseguente al fatto che il movimento federalista si percepisse come rivolto all'elite, all'elite dal punto di vista di coloro che sono i decisori dell'elite politiche. Perché se questo è vero, l'errore a suo tempo denunciato è un errore che viene continuamente riproposto, viene continuamente fatto anche ai giorni nostri. Cioè questa difficoltà a uscire da un recinto particolarmente piccolo, no? Eccoci, siamo un'avanguardia oppure, come hanno sul tempo teorizzato qualcuno, oppure siamo un po' di lievito, un po' dentro in questa massa? Ok. Ho finito. Buonasera a tutti. Prima è stato letto un mio commento da parte della moderatrice che ho scritto sulla chat riguardo al fatto che gli stati, ho scritto che gli stati nazionali non portano naturalmente i germi del nazionalismo e del fascismo. Questo è una delle annotazioni fatte dall'ottimo Giulio Saputo durante il suo resoconto. Naturalmente è un punto di vista, il mio punto di vista è che sbagliarono a scrivere questa cosa, cioè un'affermazione troppo forte, eccessiva, cioè l'azione degli stati nazionali, l'azione di tutti i corpi collettivi, dipende dall'azione, dal comportamento delle persone. Assumere un punto di vista determinista, dal mio punto di vista, io lo chiamerei determinista, cioè dire che di per sé gli stati nazionali portano i germi del nazionalismo e del fascismo non è corretto e non è neanche sperimentalmente verificato da una serie di situazioni storiche che si sono verificate sia prima che dopo. Cioè il nazionalismo e il fascismo possono essere delle caratteristiche degli stati nazionali, ma possono anche non essere. Dipende dal comportamento, dal desiderio e dall'azione delle persone che ci abitano e delle situazioni storiche che si costruiscono. Quindi questa demigrazione degli stati nazionali è stata piuttosto uno dei gravi errori dei cosiddetti federalisti della resistenza o alcuni di questi, cioè quelli che sono stati citati, in particolare è stato scritto nel manifesto, io considero un errore perché ha impedito di, e continua ad impedire, cioè quello che è ancora più grave è continuare ad impedire, di collegarsi con il comune, sentire di una parte importante dell'opinione pubblica che evidentemente non la pensa così, perché non lo sperimenta in questo modo. Cioè considera che la propria azione come cittadino non è necessariamente né nazionalista né fascista e quindi gli stati di cui sono cittadini non siano nazionalisti e fascisti. Quindi questa denigrazione del Stato nazionale è una grave tarlo, diciamo, d'origine del movimento federalista europeo che continua ancora ad oggi e ci impedisce di venire a contatto con grandi masse popolari che questo, diciamo, non solo non condividono, ma addirittura evidentemente osteggiano perché loro, come diceva in realtà persone di sicura approvata fede europeista come Giuseppe Mazzini un secolo prima, gli stati nazionali sono un trade union fra gli individui cittadini e la società delle nazioni più generale, che sia europea o mondiale. Quindi era un'adoptazione che mi sono sentito di fare, non è l'unica, come sa bene Giulio Saputo, circa le mie possibili critiche al movimento federalista di ieri e di oggi, ma ringrazio la moderatrice per averla segnalata perché comunque, diciamo, ci ritengo che sia utile che tutti siano, diciamo, che tutti riflettano bene su questa cosa e perché è importante, soprattutto nel momento contemporaneo. Ecco, grazie. Puoi provare a rispondere? Grazie, sì, perché così dopo in caso facciamo un altro giro di domande. Ok, allora vado, faccio un giro rapido. Allora, la fumosità del progetto politico federalista di Ventotene. Allora, in realtà l'analisi di Rossi in particolare e tutta la sua formazione si fonda su un approfondito studio della rivoluzione americana e del processo federativo americano. Quindi Rossi studia esattamente quei modelli là. Il manifesto di Ventotene ci appare fumoso perché voi lo dovete immaginare come un manifesto politico per organizzare una lotta resistenziale su alcuni punti specifici e poi su quello di costruire il partito rivoluzionario che avrebbe fatto la grande rivoluzione federalista. Il problema è che chiaramente c'è stato diciamo sia l'isolamento in cui si sono trovati i federalisti nel tentativo di rompere molto spesso anche un'unità formale relativa all'azione delle forze antifasciste e l'altro problema è stato che banalmente ci appare fumoso perché noi guardiamo all'epoca post bellica con uno sguardo diverso rispetto a quello degli anni 40. Per loro era inimmaginabile in quel momento là cioè loro quando teorizzano cioè voi immaginate la genialità cioè loro quando teorizzano nel 40-41 che ci sarà un capovolgimento della guerra e solo perché cioè sono venuti a sapere della legge affitti e prestiti infatti loro non parlano mai dell'intervento americano ma banalmente perché l'americano è ancora entrata in guerra però già loro soltanto da quello hanno capito che il nazifascismo sarebbe si sarebbe arrestato nella sua avanzata perché dicono cioè da lì sanno che gli Stati Uniti sostengono l'Unione Sovietica sostengono la Gran Bretagna allora vuol dire che la guerra prenderà un altro punto però capite da qui a pensare poi si sarebbe iniziato un processo comunitario con delle istituzioni specifiche e si sarebbe fatta l'Europa a pezzetti cioè dei piccoli pezzi di Stato che costruiamo qua e là cioè questa roba qui era impensabile cioè per i federalisti di Ventotene era assurda voi immaginate la lotta federalista cioè appare fumosa proprio perché è una lotta che è calata profondamente nel reale cioè nel corso degli anni i federalisti cambiano radicalmente strategia continuamente cioè voi pensate dalla lotta armata della resistenza e quindi dalla lotta rivoluzionaria passano alla collaborazione con i governi e quindi diciamo al ruolo di consigliere del principe appena il meccanismo diventa possibile e riescono a avere di nuovo un ruolo politico che è con il piano Marshall con la costituzione del Consiglio d'Europa in quel primo momento sembrava che potesse svolgere un ruolo costituente l'Assemblea Democratica del Consiglio d'Europa poi si è visto che prende una deriva intergovernativa quindi anche quella strada si chiude e da lì non si passa per fare la federazione europea ma siccome rimane attuale la necessità di dare uno sbocco e un progetto alla via federalista si cambia ultimamente strategia e allora si prova a fare quella della CED CED CPE allora si prova quella via lì fallisce quella strada là allora ancora una volta però capite ogni volta danno delle specifiche vie per costruire delle istituzioni per ogni per ogni battaglia i federalisti costruiscono un progetto e delle istituzioni politiche specifiche capite cioè quando si faceva la battaglia della CED la battaglia dei federalisti era costruire il CPE cioè dare la comunità politica europea un'assemblea e una struttura specifica fallisce la battaglia lì diventa l'MFE una forza rivoluzionaria un'altra volta e passa all'opposizione ti fermo puoi spiegare meglio questo passaggio CED CPE perché non tutte le persone che sono collegate hanno queste hanno questa conoscenza e questo invece è un passaggio fondamentale sì sì no vabbè cioè la CED della comunità europea di difesa che visto che si pone il problema del riarmo della Germania con il pericolo sovietico si decide a un certo momento invece di riarmare la Germania si propone di costituire un esercito europeo si sostituisce la CED il grande lavoro dei federalisti tramite Spinelli e anche di De Gasperi che ha un ruolo essenziale in questa roba qua è quello di aggiungere alla scelta delle istituzioni politiche democratiche cioè non costruire un esercito a sé stante ma di costruirci delle istituzioni un'assemblea democratica un governo europeo e sulla base di queste istituzioni qui c'è un tentativo in Europa una svolta che sembra di realizzare la federazione europea può purtroppo cioè lì sono i casi della storia a quest'ora avevamo già uno stato federale probabilmente però lì è successo che è morto Stalin è scoppiata la guerra in Indocina sono due cose che alla Francia diciamo gli hanno fatto gioco forza di mantenersi la forza però quello che volevo dire per fare l'escursus no cioè paradossalmente col CPE con la congresso del popolo europeo poi i federalisti passano all'opposizione radicale cioè loro basando la loro battaglia politica sulle istituzioni del congresso del popolo indiano di Gandhi credono e fermamente pensano di poter costruire un parlamento rivoluzionario in Europa parlando direttamente ai cittadini e lì è stato il momento dove probabilmente tra la fine degli anni cinquanta e metà degli anni sessanta il movimento federale europeo si è avvicinato di più a essere un movimento diciamo vicino alle masse per andare poi anche a parlare alla domanda dopo cioè se durante la resistenza per motivi ovvi il problema era che uno non può fare può parlare alle masse perché banalmente le masse ragionano in un regime di occupazione militare politica e si dà una struttura specifica di minoranza attiva di collaborazione con la popolazione successivamente abbandonata la formula del partito l'MFE si dà diciamo un'organizzazione attuale possiamo dire dopo proprio la campagna del congresso del popolo europeo dopo Lorenzino dice rivoluzionari da operetta sì dopo questo tentativo rivoluzionario che non va a buon fine e in cui poi confluisce di nuovo diciamo nell'accompagnamento e nella ricerca delle contraddizioni del processo di integrazione comunitaria cioè i federalisti abbandonano la via di opposizione a Maastricht di opposizione ai trattati di Roma sì a Maastricht di opposizione scusate ma ai trattati di Roma cioè alla svolta della comunità della CEA diciamo e cercano di partecipare in modo attivo al processo di integrazione a sfruttarlo lì si attiva ancora un altro piano strategico per realizzare le istituzioni federali e lì e in quel periodo là c'è diciamo da dopo dalla fine degli anni sessanta che l'MFE si inizia a dare la struttura che ha oggi quindi l'MFE teorizzato in sezioni come centri di agitazione politica e di elaborazione culturale l'MFE costituito in anche una certa forma ideologica l'MFE che partecipa e ha una visione del processo di integrazione europea come tripartito in crisi iniziative a leadership nello sfruttare il piano inclinato delle contraddizioni del processo di integrazione nasce proprio alla fine degli anni sessanta e in questo senso la bella domanda a cui oggi bisognerebbe rispondere è qual è il piano dei federalisti cioè quali sono oggi i federalisti il progetto con cui vogliono dare delle istituzioni compiutamente federali all'Europa e se hanno chiaro le ripartizioni necessarie e il ruolo che devono avere queste istituzioni federali in realtà sì però penso che non esista un un testo approvato dai federalisti che le definisca in termini tecnici cioè mi spiego bene esistono tanti libri di federalisti che sono membri attivi del movimento federalista europeo e che ne definiscono la strategia politica e che effettivamente ne caratterizzano il dibattito politico interno però non esiste secondo me in termini cioè proprio devo dire sistematici un progetto di federazione europea cioè c'è chiaramente dai documenti politici che vengono approvati un modo di come cioè si fa la battaglia per arrivare però la realizzazione finale non è cioè non se ne parla mai quasi non se ne parla quasi mai ma proprio perché è un movimento che guarda molto all'azione non se ne parla mai tante volte per evitare di discutere sul su quello che potrebbe diventare aria fritta cioè creare una divisione sulla mia visione di federazione rispetto alla tua visione di federazione cioè il discorso è che si cerca di guardare al presente quali sono le contraddizioni del processo presente cosa non permette di avanzare verso delle istituzioni completamente federali allora risolvere quelle contraddizioni permette di avanzare al processo per esempio una grande contraddizione dell'attualità che c'è adesso è sul piatto evidente è quella della paralisi dell'approvazione del recovery plan nel confronto fra Parlamento Europeo e Consiglio e lì cioè il Consiglio tiene in scacco lì l'Europa perché non accetta il compromesso che vuole proporre il Parlamento e lì è una questa è una delle contraddizioni cioè è su quelle cose lì su quella battaglia lì che si costruisce una federazione perché lì poi parliamo di risorse proprie quindi dare un bilancio quindi la possibilità di fare politica economica vera sul piano comunitario ancora più sostanziale di quella che già ora è messa in campo però in misura una tanto con la possibilità di fare debito eccetera c'è la difesa dello Stato dello Stato di diritto cioè in ballo ci sono delle cose di Cerenzino giusta dialettica abilica camerale fra due istituzioni federali è ancora non proprio federale cioè se fossero sullo stesso piano politico e avessero lo stesso potere avessero anche una vera propria iniziativa legislativa direi di sì ancora diciamo il Parlamento europeo non ha lo stesso potere del Consiglio allora quando si arriverà magari a quella quel passo lì avremo veramente una dialettica bicamerale dopo fino a che c'è il veto il veto secondo me è una delle cose meno democratiche che abbiamo nell'Europa di oggi una grande contraddizione perché il veto è la cosa meno democratica di tutte voi immaginate siamo non so quanti siamo in questa in questa conversazione 53 però se in 53 ora loro sono meno sono 27 però si dovete mettere d'accordo per andare a mangiare la pizza io vi dico la pizza non la voglio andare a mangiare voi fino a che non mi convincete o non mi portate una pizza voi non andate neanche a mangiarla la pizza cioè capite qual è l'assurdità del sistema intergovernativo quindi risolvendo queste contraddizioni si manda avanti il processo poi è chiaro che secondo tutti i federalisti il modello migliore è quello americano cioè due camere una degli stati e una dei cittadini un governo e dei poteri specifici cioè una corte che risolve i conflitti fra i poteri cioè è esattamente il modello americano e in realtà se ci pensate cioè le istituzioni europee sono molto simili poi a questo modello chiaramente hanno le loro peculiarità e su una cosa sono d'accordo riguardo su questo voglio rispondere a Rezzino sugli stati nazionali è chiaro che l'Europa non sarà mai come gli Stati Uniti d'America cioè l'Europa ha inventato lo Stato nazionale lo ha esportato nel mondo come modello unico di organizzazione politica sociale cioè noi abbiamo inventato lo Stato nazionale e lo abbiamo esportato e ci abbiamo organizzato il mondo e definito i confini a tavolino del mondo secondo il modello dello Stato nazionale cioè questa è una cosa importante i federalisti quando fanno la critica allo Stato nazionale e questo era semplicemente per dire che la federazione europea avrà un suo sviluppo che sarà indipendente rispetto a quello del federalismo americano no? Cioè è un po' come dire io non so se per me può essere il modello migliore quello americano però è cioè non è necessario che si applichi al modello europeo cioè non è detto che si riesca a realizzare perché? Perché noi abbiamo appunto queste istituzioni veramente secolari con una tradizione una storia che è molto importante cioè e che hanno un ruolo nel 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 definire la nel definire poi anche il processo di integrazione europea un ruolo importante sullo Stato nazionale allora in realtà la la critica particolarmente radicale nei confronti degli Stati nazionali nasce proprio sul sia sulla la critica della crisi dello Stato nazionale sia in particolare successivamente quando si va a a dare una definizione del nazionalismo cioè federalisti per i federalisti il nazionalismo è un'ideologia e designa la la divisione del genere umano e la giustifica e poi i federalisti tramite Mario Albertini hanno fatto tutta una una decostruzione del mito dello Stato nazionale cioè sia su che cos'è lo Stato che cos'è la nazione cioè quindi eh tutto il percorso che ha portato alla fusione dalla comunità politica alla comunità etnica dall'orvesciamento della piramide del potere no eh relativamente recente che è un processo che si è realizzato nell'ottocento e poi il federalismo è fra ha fatto su a tutte quelle teorie che hanno eh smascherato il meccanismo di identità relazionale e dell'oblio su cui si fonda la costruzione l'invenzione dell'identità nazionale no eh però detto questo cioè la nazione quindi stiamo d'accordo è un plebiscito quotidiano eccetera 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 però esiste cioè e su cui su questa cosa qui dobbiamo assolutamente farci conti eh i federalisti non è che non riconoscono il ruolo progressivo dello Stato nazionale anche lo stesso manifesto di Ventotene è quello che vi cercavo di dire prima cioè ha lo Stato nazionale ha un essenziale elemento di civilizzazione nel corso della storia però a un certo momento cioè arriva una contraddizione per cui non ha più la capacità di intervenire nella realtà diventa un limite questo limite va superato la sua antitesi è la costituzione delle istituzioni che ne permettano la capacità di problem solving e che siano e che abbiano un livello superiore federale questo non vuol dire la scomparsa dello Stato nazionale in particolare in Europa cioè e questo è importantissimo da capire cioè per tutti è essenziale che si rimanga divisi in nazioni diverse cioè non è detto che si crei una nazione europea noi dobbiamo darci delle istituzioni e dei valori condivisi che ci definiscono che ci definiscano come comunità che ha uno scopo comune per il futuro e per garantire magari anche un futuro migliore all'umanità no? Però visto che abbiamo esportato questo modello dello Stato nazionale non è proprio il migliore possibile dare anche un'alternativa che è carina dell'istituzionalizzazione dei conflitti tra Stati nazionali può essere una bella idea no? E questo è il processo che si è innescato nell'Unione Africana in Mercosur in Sud America cioè quindi è una cosa è una cosa interessante nel senso dobbiamo stere istituzioni ma gli Stati nazionali restano restano con la loro rappresentanza la loro sovranità che è condivisa eccetera eccetera quindi non è che i federalisti chiaramente sono assolutamente contrari agli Stati nazionali però diciamo i Stati nazionali hanno in sé connaturato e questo lo dicono in una semplificazione è chiaro che è un modello di analisi è come il materialismo storico cioè nel senso non è che si applica sempre il materialismo storico l'Islanda è uno Stato in cui paradossalmente nonostante lo sviluppo delle forze produttive riesce a vivere nella contemporaneità come mai? Cioè capite nel senso esistono delle delle contraddizioni cioè sono degli idealtipi di analisi però bisogna anche inserirli all'interno dei processi in cui si vengono fatti e diciamo che c'è sempre un pericolo quello che diano i federalisti è che c'è sempre un pericolo in cui mi rionosco io è che c'è sempre un pericolo di degenerazione dello Stato nazionale fino a che non si ostruiscono delle istituzioni multilaterali federali solide che permettano che questo rischio non avvenga allora sì allora se te superi cioè dai una garanzia di superamento dei conflitti allora cioè nel senso lo Stato nazionale può tranquillamente rimanere come un modello politico di governo basta che se si dia la garanzia di stabilità scusatemi non avevo più letto la chat vado a leggere se le corti federali concorrenti o le corti statali la corte suprema è stato un tema di grande dibattito prima della guerra civile perché è considerato una longa manus del governo federale certo ma come anche la banca cioè Hamilton il lavoro è affatto con la mutualizzazione del debito cioè nel senso la storia mediana è è un esempio secondo me concreto anche di realizzazione forse è stato anche un esempio concreto per grandi personaggi ora non sappiamo cioè per esempio per grande personaggio ha rifiutato la presidenza di Goldman Sachs chissà che fine farà però cioè ci sono queste persone secondo me anche nell'attualità si ispirano con l'altro a quel modello in Belgio abbiamo sette governi determinismo storico ma si steggia in Belgio abbiamo sette governi infatti io il Belgio credo sia quasi uno Stato fallito cioè secondo me il Belgio se stava fuori dall'Europa probabilmente sarebbe uno Stato veramente ai limiti della non lo so cioè veramente difficile vivere in Belgio poi ora è chiaro parlo dico per scherzare però veramente ha una forma di governo straordinariamente complessa c'è qualcun altro che vuole intervenire a me interessa un po' che tu provi ad affrontare questo tema poi nel sentire comune istituzioni multilaterali Unione Europea fanno rima con globalizzazione quindi diciamo lo spavento che la gente ha preso oppure la disillusione che la gente ha avuto o i problemi che la gente ha avuto dalla globalizzazione vengono identificati poi con le istituzioni multilaterali e con l'Unione Europea ed è uno dei motivi per cui viene criticata l'Unione Europea cioè si confonde questo processo si confondono le istituzioni con la globalizzazione con l'incapacità di gestire di proteggere le fasce più deboli dalla globalizzazione non so se piace Giulio di fare una riflessione anche su questo tema qua cioè sia nella percezione cioè c'è una verità comunque no? in questo che c'è un legame tra multilateralismo e globalizzazione in qualche modo dell'economia no? vediamo anche nel chat che abbiamo Enrico Padoan che vuole intervenire e poi anche Zino se possiamo fare intervenire Enrico Padoan prima di passare alla risposta? sì sì possono intervenire chi vuole prende la parola ok allora vado mi sentite? sì sì grazie mille per questa ottima presentazione panoramica io volevo porre un po' di domande insomma io personalmente non mi sento di concordare con con molti punti insomma del progetto dell'MF ma cerco di fare insomma interventi costruttivi insomma che senza fare un po' il troll diciamo della situazione e mi riferì parto da da una da un punto che che è centrale insomma cioè il concetto di pace e il concetto di pace che mi sembra durante tutta la presentazione ma anche in generale nelle riflessioni federaliste viene praticamente inteso esclusivamente come assenza di conflitti interstatali e io credo che sia una visione estremamente limitante ed è una visione che innanzitutto assume a volte dei tratti un po' retorici cioè l'Unione Europea come garanzia di 70 anni di pace diciamo perdendo di vista quello che era la situazione del continente dopo i 45 insomma e quindi sostanzialmente la perdita di centralità di potere all'interno dello scenario mondiale e la la divisione in blocchi e il fatto che comunque soprattutto nel blocco occidentale avevamo paesi evidentemente in allo sfacelo e pace inteso in questo unico senso secondo me è pericoloso perché perde di vista quello che è il conflitto sociale derivante delle disuguaglianze e derivante poi anche come accennava adesso Francesca Nicastro ovviamente anche allo sviluppo e alle contraddizioni della globalizzazione del modello neoliberale modello neoliberale che impregna e questo è direi indiscutibile l'architettura e la filosofia che sta sotto il progetto comunitario europeo così come lo conosciamo e si tratta di capire che intendere intendere voglio dire perdere di vista il ruolo che che hanno i corpi intermedi all'interno di un progetto comunitario non è lo stesso rispetto a quello che può avere che possono avere e mi riferisco soprattutto dal ruolo dell'organizzazione dei lavoratori dei sindacati all'interno degli stati nazionali come punto di accesso per le politiche come luogo in cui è più facile aggregare i soggetti deboli del mondo del lavoro che sono i lavoratori per l'appunto mentre il progetto dell'Unione Europea va in direzione di una liberalizzazione che voglio dire direi l'intera letteratura insomma di politica economica e di economia politica ha sottolineato come abbiano è stato un progetto che abbia sostanzialmente fatto perdere potere attraverso diversissimi meccanismi a questi soggetti sociali e a questi attori sociali poi come dire penso anche che il ruolo dell'Unione Europea recentemente come si è visto in Grecia ad esempio sia stato un ruolo pesantissimo dal punto di vista di imposizioni sociali e su questo secondo me c'è scarsissima riflessione da parte degli intellettuali federalisti e delle persone che abbracciano questo progetto credo che come dire il revival dei nazionalismi sia da leggere anche in questo senso sia da leggere considerando che esistono diversi tipi di reazioni a questo stato delle cose a questa Unione Europea realmente esistente c'è la reazione diciamo sciovinista che va per la maggiore che è evidentemente una minaccia ci sono altri tipi di reazione che fanno semplicemente leva sul fatto che il termine sovranità è un termine da recuperare è un termine recuperare perché riguarda il controllo che i cittadini hanno sulle proprie istituzioni per cui la delegittimazione che ha avuto l'Unione Europea come progetto negli ultimi anni non può essere letta solamente da destra come una reazione alle sfide dei migranti e un ritorno da turismo culturale per beneficiare dei ditte nazionali ma anche come una sfida per il recupero di una sovranità democratica e questo è un fattore che esiste e su cui comunque bisogna fare i conti penso anche che vi siano voglio dire anche delle forze storiche o meglio dei posizionamenti storici del movimento federale che debbano essere messi in questione io quando ho letto prima la vera sfida tra progressisti e reazionari e attorno al tema dell'internazionalismo e della critica al federalismo come dire ovviamente si capisce il perché il movimento federalista abbia fatto così tanta fatica ad attecchire in certe aree politiche e a quella che all'epoca era anche il partito comunista italiano perché stiamo parlando comunque di parole forti stiamo parlando di una visione del mondo che postula la differenza sostanziale fra coloro che vedono comunque lo Stato Nazione come un luogo e uno spazio potenzialmente progressivo e chi non lo vede e fra i primi troviamo ovviamente forze molto diverse perché all'epoca negli anni 60 a vedere in questo senso le cose ci stava il PC e ci stava la MSI per dire per cui equiparare la divisione del mondo secondo quegli assi porta a dei problemi seri di analisi di analisi di cosa sono le forze politiche penso che il nazionalismo poi chiudo è sicuramente un male che è sviluppato dallo Stato Nazione credo che come dire ciò ovviamente non è assolutamente un aspetto necessario e penso che il nazionalismo e il fascismo come è stato definito il fascismo e il nazismo non vengano necessariamente dall'esistenza della Stato Nazione cioè il fascismo e il nazismo nascono come reazione in entrambi i casi se in Italia che in Germania a processi di mobilitazione delle masse e in reazione ad essi e quindi sostanzialmente sono progetti reazionari dal principio e vanno letti in termini di classe non vanno letti in termini di nazionalismo semplicemente l'espansionismo l'imperialismo questi sono fenomeni che sono venuti dopo ma se si lega strettamente fascismo e nazismo allo Stato Nazione si ricade di fatto in quella retorica che dice che il fascismo faceva anche cose buone finché non è entrato in guerra nel 39 nel 39 nel 40 nel caso italiano e non è così non è così il progetto fascista a prescindere dal posizionamento internazionale parte nasce e cresce come un progetto di reazione su base di classe io personalmente non sono marxista sono un socialdemocratico credo nella forza dei corpi intermedi credo nella forza dei lavoratori organizzati attraverso le istituzioni politiche e credo che il problema dell'Unione Europea ad oggi stia soprattutto qui che concretamente liberalizza il come dire mercati senza garantire potere e quindi diritti ai lavoratori e di qui vengono moltissimi è un punto di vista quello del movimento federalista legittimamente liberale e in quanto legittimamente liberale ma in quanto liberale perde di vista le questioni del potere e quindi le questioni delle organizzazioni collettive che devono difendere attraverso il potere i diritti delle persone grazie Enrico molto bene argomentata il tuo ragionamento e credo che sia proprio un bello stimolo di discussione vedevo che nella chat che c'era anche qualcun altro che voleva intervenire io volevo intervenire che ero dopo buonasera facciamo interventi brevi Zino perché poi c'è anche Francesco Mazzei e poi ci terrei molto a sentire la risposta di Giulio a queste a queste osservazioni una cosa che volevo chiedere a Giulio in realtà ma è che praticamente prima si è parlato nell'intervento la fibricamente in America è partita che si è detto è partita dal basso la volontà delle dell'unione in realtà da come in realtà non l'ho molto percepita così nel senso che anche negli Stati Uniti sì per esempio la mutualizzazione del debito è derivata dalla crisi che si è scatenata e dalla necessità degli stati di trovare di far fronte a una crisi economica quindi però la volontà è arrivata dai singoli stati cioè non è non è comunque arrivata dal popolo non è che il popolo un giorno si è svegliato e ha detto vogliamo la mutualizzazione del debito e sicuramente in più non è che c'era la democrazia il suffragio universale non c'erano un sacco di cose insomma quindi anche lì è relativa la cosa e quindi secondo me comunque una fascia di persone con delle idee chiare e degli ideali forti può fare la differenza secondo me quindi secondo me si contraddice un po' si può contraddire un po' quello che era stato detto prima altra cosa rispondendo a quello che è stato detto prima sulla pace semplicemente come assenza di conflitto dissentisco mi permetto di dissentire fortemente su questa cosa perché non è solo questo l'essere federalisti vuol dire creare una situazione un legame un rapporto tra stati tale per cui non solo tu eviti il conflitto ma lo lo rendi assolutamente impossibile per questo si dice che noi della lista non siamo pacifisti ma siamo pacificatori perché creiamo una pace duratura attraverso degli strumenti che sono non sono sicuramente solo l'assenza delle eh di conflitti armati ma è anche gli aiuti la un attimo ribadisco preciso pace come un attimo che sto leggendo la risposta della chat pace come l'assenza di conflitti interstatali non è solo vero questo ma anche come come rapporti interstatali rapporti economici rapporti politici stretti che evitano eh il conflitto sì ma non solo il conflitto ma ovviamente il conflitto politico ci può essere perché eh sicuramente anche negli Stati Uniti gli interessi dell'Iowa voglio dire saranno sicuramente diversi da quelli di uno Stato più ricco come può essere lo Stato di New York comunque eh detto questo mi 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 taccio anch'io grazie grazie Zino Francesco Montelli sì grazie scusami ehm sì cioè forse c'era Stefano che voleva intervenire prima sì una cosa vedo se volo solo però breve sì non non vi rubo troppo tempo no eh è stato molto interessante e mi aggancio all'ultimo intervento anche io credo che anche il professore saputo a un certo punto l'ha detto ritengo che un uno step che si dovrebbe superare eh visto che noi garantiamo la pace internamente ma dovremmo garantirla anche in altre aree del mondo se vogliamo tornare ad essere centrali in quelli che sono poi le discussioni no internazionali per quello che riguarda qualsiasi tipo di conflitto quindi di fatto eh superare quell'aspetto che da da molti si dice importante forse anche quello che potrebbe essere poi il germe di forse di una reale federazione europea che è quello di avere un esercito comune perché poi alla fine ehm se si pensa di risolvere alcune situazioni geopolitiche a livello planetario non si può più essere non centrali sia il Mediterraneo che il Medio Oriente perché ormai eh eh non lo siamo lo sanno nei singoli stati gli esempi sono molteplici da 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 quello che è successo con 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 la Libia quella volta i francesi gli americani ehm attualmente disastro che c'è eh per esempio quello che si sta sta succedendo fra la Repubblica del Nogorno-Karabakh fra Armenia e Azerbaijan la quale noi non ci siamo fondamentalmente eh credo che questo potrebbe essere un punto secondo me da 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 cui riflettere per essere anche più incisivi e per passatemi il termine un po' brutale battere i puni sul tavolo poi quando succedono queste situazioni perché poi se no si è sempre succubi o di Putin o di Erdogan o del Trump della situazione e ritengo che se se noi siamo l'Europa e abbiamo e siamo stati anche la culla della civiltà fondamentalmente dovremmo anche gestire e tornare protagonisti su questo e forse il primo step è proprio quello dell'esercito comune questo è il mio pensiero basta finisco finisco qua grazie Stefano Francesco Mattei allora poi vediamo se Giulio Saputo il professor Saputo può rispondere a questi stimoli ok grazie allora io volevo concentrare il mio intervento su una riflessione di tipo prettamente federalista appunto che mi è venuta in mente insomma ascoltando quello che diceva Renzino l'europeo Renzino l'europeo mi sembra che il cui intervento secondo me riassume bene cosa non è il federalismo il federalismo europeo in particolare mi riferisco al fatto che diceva lui secondo cui gli stati nazionali non hanno in sé il germe non portano in sé il germe del nazionalismo in realtà è proprio questo secondo me il nucleo fondamentale del nostro pensiero cioè lo stato nazionale come idea che concepisce una comunità di sangue che diventa quasi divina insomma e per cui strutturalmente si creano le condizioni insomma di giungere a dei conflitti nell'ambito internazionale ecco questo tipo di organizzazione politica questo tipo insomma di struttura politica crea di fatto le condizioni per il nazionalismo in ogni caso in ogni caso e io credo che questa sia una cosa veramente importante da ribadire e credo anche che e credo quindi che non si possa parlare in alcun modo insomma di esistenza di stati nazionali all'interno insomma del nostro mondo insomma federalista che noi vogliamo si può al massimo parlare di stati di stati appartenenti a una federazione nel nostro caso magari una federazione insomma nel nostro caso una federazione europea anche se poi insomma noi crediamo che il nostro obiettivo ultimo sia raggiungere la federazione mondiale e questo non è potrà sembrare un discorso un po' da integralista federalista se si vuole però in realtà è proprio questo diciamo il discrimine fra il federalismo e altre e altre insomma ideologie o idee o sensibilità internazionaliste che magari guardano più a una vaga insomma considerano una vaga collaborazione tra stati che alla fine non si risolve niente perché non ha le istituzioni per risolvere i problemi e quindi garantire come dire la forza del diritto come si diceva prima non solo all'interno di ciascuno stato ma anche per gli stati stessi sì la mia non era una domanda in realtà era più forse un completamente quello che diceva saputo prima comunque se lui vuole commentare riguardo a questo mi fa piacere grazie Giulio se ci sei ancora disponibile per noi eccomi 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 ci sono ci sono no io vi ringrazio davvero per le domande sono praticamente un'altra relazione se volete rimanere qui fino a mezzanotte le affrontiamo tutte no scherzo sarò lapidario brevissimo e così permetto anche una conclusione dell'evento abbastanza rapida in realtà la domanda di Francesca secondo me è racchiusa nell'ampia riflessione che ha fatto Enrico per cui lo ringrazio e che ha fatto veramente una bella riflessione e anche molto argomentata allora ci sono dei punti effettivamente che purtroppo ho trattato con una rapidità allarmante nella relazione però per forza di ose me ne dovete scusare e questo sarebbero da approfondire molto un punto essenziale è quello a cui ci tengo a ribadire che non è che i federalisti dicono bisogna tirar su delle istituzioni e quelli bastano a garantire la pace no cioè la pace per i federalisti ora io ho trovato una definizione secondo me la migliore è stata prodotta all'interno della riflessione del pensiero federalista in generale nei decenni è questa se per realizzare la pace infatti è necessario un ordine legale uno stato esteso a tutto il genere umano il diritto e lo stato che lo fa valere non sono contestati sono stabili solo quando sono assicurate la libertà la democrazia e la giustizia sociale queste non sono sufficienti per avere la pace ma sono di fatto condizioni necessarie che cosa significa questa questa definizione qua detta molto in concreto è che non esiste una pace tra stati se non c'è una pace fra le classi sociali non esiste una pace se non c'è la libertà all'interno degli stati cioè capito qual è il punto chiave il federalismo si afferma come sintesi e capacità di realizzazione delle grandi ideologie del novecento non è il liberalismo cioè non è liberale il federalismo anzi il federalismo in realtà ha una grandissima tradizione socialista il federalismo socialista anarchico rivoluzionario cioè c'ha tutto un suo percorso cioè segue tante strade come esiste il federalismo liberale cioè paradossalmente per esempio al paradigma della crisi degli stati nazionali ci sono arrivati negli stessi anni due pensatori in modo completamente autonomo che sono due pensatori che paradossalmente fondano entrambi due filoni diversi rappresentano agli antipodi uno direbbe del pensiero occidentale europeo anche da una parte c'è Trotsky e dall'altra c'è Inaudi però insieme entrambi negli stessi anni elaborano la crisi dello stato nazionale allora il federalismo su che cosa si fonda si fonda su questi presupposti qui cioè sull'essere una sintesi e dare una garanzia alla realizzazione di quelle ideologie cioè quello che cercano di dire federalisti quando Spinelli dice che la linea di demarcazione fra progressiste reazionale chi ha capito che la sua battaglia ha un senso se è realizzata su un piano sovranazionale e non è rimasta sul piano nazionale è questa è per questo che poi fanno il salto di qualità cioè per lui cioè secondo la sua visione comunisti quando si rendono molto di questa cosa qua perché perché la il federalismo non si fonda su un valore quello che volevo dire prima era questo cioè il federalismo non si fonda su un unico valore che è la pace il federalismo si fonda e lo ripeto ancora sulla pace che può essere garantita ed è stabile cioè l'istituzionalizzazione dei conflitti cioè la creazione di istituzioni federali che garantiscano la pace è garantita ed è stabile se non c'è il conflitto di classe se è garantita la libertà e se è garantita la democrazia se uno di questi tre assiomi non è garantito non si realizza la pace cioè per questo i federalisti dicono che loro sono la sintesi delle grandi ideologie del passato si fonda il pensiero federalista l'analisi la strategia sulla circolarità di valori fra cui la giustizia sociale è sicuramente importante e questo riguardo il pensiero federalista cioè quindi il pensiero federalista voi dovete considerare Ciaffa e i suoi padri Einaudi e Trotsky Proudhon e Hamilton e Kant nel senso per ogni pensatore liberale c'è un socialista e poi è chiaro che il federalismo come il liberalismo come il socialismo c'ha duemila declinazioni diverse che possono andare più a sinistra o più a destra cioè nell'immagine uno può realizzare qui è chiaro io vi do una definizione del federalismo che è quella ufficiale tra virgolette della storiografia federalista del movimento federalista europeo però è chiaro che il mio la mia visione del federalismo non è uguale a quella che ne so della diletta di là cioè nel senso ognuno poi declina il pensiero cioè questo è chiaro poi secondo le sue riflessioni e anche le sue esperienze quindi non bisogna mai fare tutta l'erba un fascio poi sugli altri temi in particolare sull'Unione Europea invece innanzitutto secondo me anche l'Unione Europea il problema di definirla in sé come un organismo neoliberale cioè o un un processo necessariamente neoliberale porta una contraddizione cioè fino a che uno non si impegna perché non cioè cambi direzione nelle politiche chiaro che l'Europa prende quella strada là finché c'è una classe dirigente una maggioranza politica che vince le elezioni e che va in quella direzione là l'Europa va in quella direzione là ma come l'Italia cioè l'Italia non è che è neoliberale l'Italia l'Italia è un paese cioè l'Europa uguale cioè è un è chiaro che non è ancora uno Stato ma è un ibrido e si avvicina ad esserlo uno Stato e l'abbiamo visto chiedo scusa Giulio però il punto mio è che le istituzioni che sono state disegnate portano voglio dire non sono regole del gioco neutre in quel senso l'Europa io la intendo come strutturalmente disegnata per un progetto economico neoliberale qui non voglio fare il complottista è semplicemente voglio dire come è stata architettata la struttura economica dell'unione ma questo è riconosciuto voglio dire al di là del e per cui se tu le regole del gioco le piazzi in maniera non neutra è difficile aspettarsi che queste regole del gioco possano essere come dire sovvertite o modificate in maniera così facile come sono state facili tra virgolette come sono state disegnate all'inizio cioè ovviamente non è non è che si parte da zero e non è vero che cambiando la maggioranza cambiano le regole perché esiste una struttura di fatto costituzionale sovranazionale che blocca queste le istituzioni così come le conosciamo questo era questo era il mio punto per quello io ribadivo questo questo aspetto capisco ripeto ho scritto anche nella chat che capisco le vostre critiche dell'unione europea non voglio dipingervi come come dire difensori dell'esistente capisco le le riflessioni che fate e credo però che appunto perché siete pragmatici vi dipingete come pragmatici il fatto che sia difficile come dire riformare questo tipo di di impianto è un aspetto su cui bisogna su cui bisogna riflettere poi credo che le riflessioni le abbiate fatte molte più molto più di me molto più voglio dire è il vostro principale obiettivo insomma quello che ti voglio dire Enrico però è che se vedi cioè per esempio alla risposta che è stata data la larga differenza che c'è stata dalla risposta alla crisi economica greca risposta troica neoliberale alla risposta è stata data al coronavirus è vero insufficiente per carità anche molto spesso limitante però c'è è tutto un altro livello di politica economica cioè da una parte politica economica lacrime e sangue tagli commissariamento dello Stato dall'altra per la prima volta si inizia a fare debito pubblico umunitario in posizione in realtà di una solidarietà europea finalmente con un tentativo di costruire una risposta comune alla crisi cioè è chiaro che il problema qual è c'è un problema d'origine che è quello che tu hai detto te il problema di origine di queste istituzioni qui che noi abbiamo fatto delle istituzioni per il mercato e non per costruire una democrazia cioè nel senso piano piano ci sono state delle battaglie ha fatto anche il movimento fede europeo per dare un significato sempre più statuale tra virgolette a queste istituzioni però ragazzi il percorso funzionalista ha iniziato dal mercato quindi il problema qual è oggi il problema è che questa contraddizione qui per cui noi abbiamo tra virgolette si dice il capitale libero di muoversi in Europa e il lavoro vincolato e la contraddizione per cui noi abbiamo i rappresentanti dei lavoratori e fanno le loro battaglie sul piano nazionale non riescono chiaramente a rispondere con uguale forza alle forze del mercato che perlomeno si muovono sul livello europeo per lo massimo si muovono sul piano globale e quindi è chiaro che da un lato la risposta vale è che servirebbero finalmente a parte che le organizzazioni e i corpi intermedio europei acquisissero un maggior peso cioè per esempio mi immagino la Confederazione Europea dei sindacati la CES che tra l'altro è anche guidata da un italiano cioè sono forze dovrebbero acquisire una vera un vero potere politico nell'architettura europea ma acquisiscono un vero potere politico dal momento in cui costruiamo veramente delle istituzioni che permettano di dargli una sponda a queste forze e questa è la cosa importante cioè noi dobbiamo realizzare le nostre battaglie per far sì che abbiano un riscontro politico istituzionale cioè io se sono se io voglio tutelare il lavoro in Italia devo sapere che per farlo devo avere dall'altra parte un interlocutore che è in grado di trattare alla pari con un'azienda che come minimo si muove sul piano europeo come massimo si muove sul piano globale per farlo mi serve delle istituzioni mi serve uno Stato che come minimo si muova sul piano continentale capite cioè questo è quello che diano i federalisti cioè dobbiamo creare delle istituzioni che permettano anche alle battaglie dei corpi intermedi che sono soffocate dentro confini nazionali abbiano un riscontro sul piano sovranazionale e questo è diano i federalisti cioè su questo anche per esempio se l'ultima campagna ha fatto ora la GFE per quello hanno aderito tutti i sindacati cioè CGL CISLE e fanno parte del movimento europeo in Italia ma perché perché sono le prime le forze politiche sociali sono le prime che si rendono conto che sono bloccate all'interno dello Stato nazionale cioè il problema è quello hanno bisogno di una controparte di un potere e qui ritorno anche all'importanza della sovranità cioè di una vera sovranità ma non di una sovranità esclusiva nazionale che si contrappone alle altre sovranità ma di una sovranità europea che gli permetta cioè che abbia veramente il potere di intervenire nelle politiche e che sia in grado perché no cioè di fare una politica sociale ora ci sembra una rivoluzione il Sure che ha lanciato la omissione e sono solo prestiti ragazzi cioè voi immaginate se la omissione europea avesse la possibilità di emettere debito e di fare veramente delle politiche sociali sul piano comunitario cioè dotata di risorse proprie cioè già ora che non ha risorse proprie per la prima volta emette dei limitatissimi titoli di debito cioè riesce a mettere un tampone a una crisi che cavolo è una pandemia cioè voi immaginate se avessero veramente le istituzioni in grado di riscontrare e quindi potrebbe fare la differenza l'Europa secondo me in questo senso e la cosa che ci tenevo a chiarire è che secondo me è molto importante è questa cioè l'Europa non ha un cioè non ha un cammino precostituito bisogna battersi perché prenda la strada che noi vogliamo quindi se vogliamo è l'Europa sia in grado di dare delle risposte per la giustizia sociale per la libertà e lo stato di diritto cioè prendete il caso dell'Ungheria e la Polonia cioè che sono aberranti cioè noi abbiamo degli stati reazionari veramente reazionari dentro l'Europa cioè per queste cose qui cioè noi dobbiamo fare delle battaglie e indirizzare verso quel modello di Europa scusate non sto più leggendo la chat ho visto che c'è anche c'era anche Plinio Perrin che voleva intervenire ma prima che forse non so se ah ok allora volevo rispondere alle altre domande poi lascio la parola un'altra volta e leggo le chat giuro su massi avanguardia in realtà sì sono d'accordo cioè nel senso poi nel processo storico lì bisogna bisogna essere prudenti chiaramente si tratta di interpretazioni io credo che in tutte le società inevitabilmente ci sia una minoranza creativa e esiste un ruolo attivo nelle masse nella storia cioè nel senso entrambi questi ose sono secondo me accettabili e poi sulla base di questi estremi qui uno costruisce la sua visione poi dei processi quindi sia della rivoluzione americana come del processo federalista europeo sulla politica estera e l'esercito cioè quale Europa nel mondo cioè questo è un punto essenziale cioè dire qual è il ruolo dell'Europa cioè già iniziare a ragionare sul fatto una volta abbiamo fatto la federazione europea che si lega in realtà anche alla alla considerazione che è stata fatta dopo sugli stati nazionali che non ci dovrebbero essere stati nazionali la federazione cioè l'Europa deve già immaginare il ruolo che deve avere perché noi dobbiamo stare attentissimi nel dire che noi non dobbiamo costruire uno stato nazionale europeo non vogliamo che l'Unione Europea diventi uno stato nazionale europeo questa è la grande cosa cioè che dobbiamo cercare di chiarire sono cose diverse cioè le nazioni sono una cosa che continueranno a esistere e lo stato cioè esistono delle istituzioni che sul piano sovranazionale garantiranno delle misure minime di governo questo è poi come si organizzerà la federazione europea al suo interno io non lo posso dire e qui nei federalisti c'è un dibattito molto forte fra chi dice rimarrà divisa in stati nazionali c'è chi dice e parla delle macro regioni e c'è chi parla della divisione in regioni delle macro regioni quello non c'è una via esatta cioè io posso dire da storico secondo me cioè è molto difficile che annulliamo gli stati nazionali almeno nei prossimi 50-60 anni cioè almeno per un secolo l'Europa io credo nonostante la storia vada a una velocità pazzesca e lo stiamo vedendo nella nostra quotidianità io credo che ancora per largo tempo gli stati nazionali saranno un potere importante all'interno dell'architettura europea che nascerà inevitabilmente con delle contraddizioni nonostante abbia dei poteri e una sovranità che le permetta di agire sia sul piano internazionale che interno continentale poi però chiaramente cioè io non sono assolutamente contrario alla scomparsa degli stati nazionali cioè non lo so sono aperto a tutte le visioni non ho nessun pregiudizio intellettuale su questo e sulla e sulla proiezione del ruolo dell'Europa nel mondo secondo me è di straordinaria importanza infatti ci sono molti federalisti che dicono stiamo già arrivando tardi cioè la battaglia dei federalisti non deve essere neanche più quella di fare la federazione europea perché tanto la federazione europea sta andando in un processo di consolidamento del potere politico europeo per cui esiste già un potere europeo che più o meno sta andando nella direzione di garantire la realizzazione di una federazione sui generis la battaglia è di declinare il messaggio federalista sul piano globale ora chiaramente si può essere d'accordo o meno però questo per farvi aprire che è importantissimo la proiezione internazionale dell'Europa nel mondo perché noi dobbiamo vedere che è un mondo quello in cui viviamo in cui c'è appunto la Cina che ha il suo modello politico e proietta il suo modello politico nel mondo attraverso una nuova forma di colonizzazione anche molto molto violenta cioè non violenta bellica ma violenta come attore politico cioè pesante l'abbiamo visto in Africa lo vediamo nell'erosione di tutte gli stati cuscinetto della Russia cioè sta mangiando veramente tutta l'Asia russa cioè c'è la Cina che ha il suo modello cioè sinceramente non è il modello forse migliore di organizzazione del mondo c'è il modello statunitense che è radicalmente diverso dal nostro cioè noi non siamo uguali agli Stati Uniti abbiamo un'altra visione del mondo nonostante esista per carità una comunità occidentale su cui ci si possa riconoscere cioè esistono dei valori europei che sono diversi come siamo diversi dai russi cioè e non c'è nessun problema la forza dell'Europa è affermare che sul piano internazionale tutti questi valori possono coesistere cioè la forza dell'Europa è quella di dire che si può essere uniti nella diversità si fonda sul dialogo cioè capite la forza dell'Europa è costruire il multilateralismo è chiaro che non si costruisce il multilateralismo con le armi spuntate io mi immagino il primo passo appena la futura Europa avrà la sua la sua propria force de frappe è per esempio di metterla al servizio delle Nazioni Unite richiedendo una democratizzazione del seggio una democratizzazione diciamo una parlamentarizzazione delle Nazioni Unite e mette al suo servizio l'esercito europeo dell'ONU quella potrebbe essere già una rivoluzione pazzesca che ci porta già a grandi passi verso una federazione mondiale ora chiaramente sto parlando di fantascienza però anche solo avere una politica estera di difesa europea è importantissimo per difendere i diritti umani i diritti civili per difendere insomma per esempio lo sviluppo sostenibile tutti quei valori quelle idee che hanno come unico attore politico che li difende nel mondo l'Unione Europea e quindi ragazzi farsi sentire in un mondo che ancora purtroppo è soggiogato all'anarchia internazionale è urgentissimo dotarsi di una politica estera e di difesa europea assolutamente su questo io sono super d'accordo e sull'istate nazionale ho risposto ora leggo le domande e lascio la parola un'altra volta facciamo intervenire Plinio Perin se vuole grazie e grazie per la ricchezza degli spunti ci sarebbe da parlare da commentare per ora per quanto è emerso io volevo chiedere un'opinione al professore a partire dalla constatazione che anche stasera quando facciamo dei confronti li facciamo soprattutto con gli Stati Uniti probabilmente perché ci troviamo una comunanza dimensionale cioè siamo grossi noi sono grossi loro però non mi sembra che per questo necessariamente si debba ritenere che il federalismo abbia un modello solo esiste il federalismo alla Svizzera esiste quello alla tedesca piuttosto quello austriaco è molto simile ma comunque non solo non esiste solo solo quello all'americana dove è vero che probabilmente come diceva Fabio Zanin il progetto è molto più partito dal basso di quanto non lo sia ad esempio quello tedesco e comunque e questo vorrei su questo vorrei anche dare un'opinione mi sembra che per quanto possano essere diversi abbiano come tratto comune la constatazione che il federalismo abbia come elemento determinante dominante la competizione tra i territori cioè territori che competono tra di loro condividendo regole nella loro diversità questo vale per gli Stati Uniti vale probabilmente per i cantoni della Svizzera piuttosto che per i lender della Germania penso chi vorrebbe sapere dare un'opinione in merito detto questo se è vero che i territori e che il federalismo è territori che competono tra di loro mi sembra che è evidente che nel pensiero dei padri fondatori all'indomani della seconda guerra mondiale dei padri fondatori dell'Europa ci fosse la constatazione che non l'Europa in sé avrebbe portato alla pace quanto piuttosto la libertà dei popoli di scambiarsi scambiare merci scambiare beni muoversi e cioè la constatazione che se passano se passano le merci probabilmente non ci si prende più a cannonate e questo è il motivo fondante della pace certo che l'Europa deve essere nel loro progetto la garanzia di questa di questa di libertà di scambio ed infatti le prime forme di comunità prima che si arrivi all'odierna Unione Europea sono comunità di scambio dove si costruisce progressivamente una libertà degli scambi ed è questa libertà di scambi che porta i popoli a ritenere più conveniente scambiarsi merci piuttosto che armi o piuttosto prendersi a cannonate l'uno con l'altro su questo vorrei una sua opinione detto questo quando lei prima ha usato il termine percorso funzionalista mi chiedo quale altro percorso sarebbe stato possibile se non questo cioè quello della costruzione di una libertà di scambio per garantirsi in questo modo la pace che prima non avevamo grazie vai giulio con questa risposta poi direi che possiamo concludere cosa sono quasi le undici sì 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 ok ok allora rispondo rapidamente io sono d'accordo innanzitutto la visione è stata data cioè sul fatto che non esiste un unico modello istituzionale è chiaro che nell'analisi del di tanti federalisti in modello di riferimento è quello americano ma essendo stati degli anni a Ginevra in Svizzera inevitabilmente le influenze svizzere in tutto il periodo con cui hanno collaborato molto strettamente con l'Europa non svizzera e con e con i movimenti che gli hanno dato in realtà poi una casa ai federalisti anche durante gli anni della resistenza hanno caratterizzato chiaramente una visione questo in particolare secondo me è stata utilissima per esempio nel superamento della dell'idea della fusione tra state e nazione cioè la Svizzera è il modello perfetto per dimostrare che anche in epoca contemporanea e non in un impero ma in uno stato democratico si possano scindere gli stati dalle nazioni no questa è la dimostrazione rampante di una forma di federazione e funziona in questo senso per cui possono convivere francesi tedeschi italiani senza avere una dinastia imperiale che li governa ma con delle istituzioni democratiche e quindi questo è molto importante senza altro quel modello svizzero è determinato sulla sulla libertà delle merci uguale pace è il problema del della visione cioè di questa di questa visione qui che è la è la visione in realtà della pace del liberalismo la contraddizione che pongono i federalisti su questa su questa visione qui è quella per cui a un certo momento cioè si arriva alla contraddizione cioè per cui gli interessi di una comunità non cioè anche andando contro l'interesse economico diventano confliggenti cioè questo l'abbiamo visto per esempio che ne so con lo Zolverein nel 1834 in in quella che doveva essere che diventerà in seguito la Germania pure l'abbiamo visto la prima guerra mondiale cioè la prima vera grande globalizzazione c'è stata prima no cioè della della prima guerra mondiale la risposta alla alla libertà dei commerci all'integrazione a zoppetti che è andata con la contraddizione della società delle nazioni e con la grande contraddizione c'è stata nella nel darsi delle istituzioni che non fossero solo confederali e garantissero appunto la l'apertura della libertà e la che altro la la benevolenza degli stati è stata quella poi di non poter rispondere alle crisi dal momento in cui poi questo meccanismo cioè si inceppa perché finché va tutto bene in realtà è chiaro che è un è un meccanismo perfetto perché se non conviene a nessuno fare la guerra la guerra non si fa però poi abbiamo visto che prima o poi succede che non conviene a tutti oppure paradossalmente succede che l'essere umano non è razionale cioè a un certo momento cioè non è necessario che le scelte politiche umane siano razionali e quindi rispondano a a un buon proposito di guadagno perdita e quindi succede che questo meccanismo rischia di fallire i federalisti dicono e per non rispondere cioè per evitare questo meccanismo si inceppi servono delle istituzioni cioè serve dal momento in cui la libertà dei commerci non è più in grado di garantire il dialogo la pace per evitare che si ritorni indietro al protezionismo al nazionalismo competitivo e poi fino alla guerra bisogna darsi delle istituzioni in questo senso il processo di integrazione europea i federalisti ecco dicevano questa cosa qua poi è chiaro bisogna vedere quali padri fondatori è chiaro che per esempio Monet o Schumann quando quando hanno inventato cioè in particolare Monet quando si è inventato il metodo comunitario aveva chiaro dell'invenzione di pezzi di sovranità sul piano europeo però aveva anche chiaro il percorso verso gli Stati Uniti d'Europa cioè per tutti era necessario camminare su un percorso che andasse in quella direzione lì perché per rispondere ai problemi e alle esigenze servono le istituzioni diceva Monet una frase che secondo me è utilissima cioè gli uomini passano le istituzioni restano per dire che cosa che le idee ma non solo gli esseri umani ma le contingenze cambiano la cosa che deve fare l'essere umano è creare delle istituzioni che gli permettano di reagire alle crisi quando verranno ecco il problema dell'Europa paradossalmente che nel suo procedere a piccoli passi secondo me ha fatto un cammino ha fatto una maratona in realtà è che la sua contraddizione è per procedere per crisi cioè è difficile è molto difficile che l'Unione Europea anticipi una crisi l'Unione Europea avanza per crisi e questa cosa è rischiosissima i federalisti e quello che vi dicevo prima l'hanno anche teorizzato il paradigma con cui si svolge il processo di integrazione europea crisi a una crisi viene proposta un'iniziativa politica e c'è la leadership occasionale che viene colta per permettere di realizzare l'iniziativa politica dell'avanzamento del processo istituzionale cioè questa cosa qui però sta iniziando a diventare veramente rischiosa se voi guardate all'attualità e qui ora concludo cioè noi abbiamo dovuto subire una pandemia globale per iniziare a ragionare di risorse proprie e di debito pubblico europeo una pandemia globale quindi cioè la lungimiranza che io io spero veramente mi auguro abbiano le nostre classi dirigenti nostri leader europei è che si inizino a rendere conto che non possiamo avere una crisi ancora più forte di quella e ci sarà di rimbalzo dopo la pandemia ci sarà una crisi economica epocale cioè voi avete visto Oxfam ha pubblicato i dati per esempio parlavamo di giustizia sociale prima cioè di quanto si è allargata la forbice sociale della ricchezza con questa crisi qui cioè ci sarà una crisi sociale umanitaria economica ma per le imprese guardate in che stato sono ora immaginate cosa sarà il 2021 quindi io mi auguro chiaramente cioè i federalisti su questo stanno spingendo che non serva un'ulteriore crisi per darsi delle istituzioni che siano in grado di rispondere alle necessità però vediamo insomma come dicevo prima l'essere umano non è razionale quindi la speranza è che ci dotiamo delle istituzioni che ci permettano di reagire la resilienza dell'Unione Europea c'è il potere europeo lo abbiamo visto in questa crisi ha tenuto speriamo tenga anche per la prossima noi dobbiamo batterci però per portare il famoso cuore oltre lo stafolo per andare avanti e chiedere qualcosa di più chiediamo appunto finalmente delle istituzioni all'altezza delle aspettative dei cittadini e che realizzino tutti quei valori abbiamo detto prima basta vi chiedo e vi ringrazio ancora professor Saputo grazie davvero per la generosità e questa esposizione molto puntuale molto precisa io direi di chiudere qui ringraziando tutti voi che siete stati fino alla fine è stato un dibattito molto intenso molto ricco di spunti veramente di qualità negli interventi e anche nelle modalità con cui si è espresso con pacatezza con puntualità facendo ragionamenti che è quello che manca un po' forse al dibattito politico che vediamo quindi grazie intanto a tutte le persone che hanno reso possibile anche questo evento Anne Parry suo marito Mario Arianna e Francesco che hanno seguito la parte tecnica spero di non aver dimenticato nessuno Giacomino organizzeremo qualcosa adesso il prossimo evento importante è il 7 novembre ve lo anticipo ci sarà un dibattito vi girerò il link ho le vostre mail sulle elezioni americane organizzate dalla sezione di Verona con dei relatori molto importanti anche Sergio Fabbrini quindi insomma il prossimo appuntamento è quello poi la sezione di Castelfranco sta organizzando un evento a fine mese e ci sarà qualcosa anche in dicembre che faremo con la sezione di Valpolicella quindi vi teniamo informati grazie continuate a partecipare e se qualcuno desidera iscriversi al movimento e dare il proprio contributo avete capito che qui c'è forza di pensiero e forza d'azione siamo ben lieti insomma di aprire le porte e di collaborare buon riposo grazie grazie a tutti ancora e complimenti per l'evento grazie grazie a tutti